Bene, credo che possiamo cominciare. Questo è il quinto appuntamento del ciclo di quest'anno Scienze della vita e Scienze dei materiali nel terzo millennio che vede due oratori, il professor Pierfausto Seneci dell'Università degli Studi di Milano e il professor Massimo Ernesto Masserini dell'Università di Milano Bicocca. Il curriculum del professor Seneci che parlerà per primo è talmente ricco che mi esime dall'entrare in particolari semplicemente sono preso da orgoglio patriottico per il fatto che il professor Seneci sia laureato all'Università di Pavia e quindi questo mi fa molto piacere dal punto di vista personale la sua esperienza sia scientifica di ricerca sia all'interno del mondo produttivo e della ricerca applicata è vastissima e spero che lui stesso abbia la possibilità nel corso della sua esposizione di far riferimento anche a qualche esperienza personale. Il titolo del suo intervento è di nuovi approcci causali per il trattamento e le cure di malattie neurodegenerative. Prego, professor Seneci. Mille grazie per la presentazione e soprattutto per l'invito. Oggi vorrei parlarvi appunto un pochino di funziona bene l'audio? Perfetto? Anche troppo, abbiamo visto la voce. di approcci causali quindi approcci moderni per la risoluzione di malattie neurodegenerative che sono tra le malattie più gravi e più impattanti e più potenzialmente pericolose per il futuro se vogliamo stare un po' ampi dell'umanità stessa. Giusto per fare un'introduzione che possa essere utile magari anche ai non esperti del sistema vi sono moltissime malattie che possiamo definire malattie neurodegenerative legate appunto al sistema nervoso che sia centrale o periferico. Molte sono ben note se parlo di morbo di Alzheimer piuttosto che di morbo di Parkinson credo che tutti abbiano una chiara idea di cosa si sta parlando. Qui ve ne sono illustrate alcune altre tipo la malattia di Huntington il morbo di Huntington la demenzia del ui body la demenzia frontotemporale tutte malattie che hanno come punto in comune il fatto di avere una perdita progressiva di struttura e di funzione o di entrambe fino alla morte dei neuroni che siano essi sistema nervoso centrale che siano essi periferici. Queste malattie hanno varie cose in comune una delle cose che le differenzia è spesso la locazione quindi quali sono le zone all'interno del nostro cervello o del sistema nervoso periferico che vengono impattate ma queste malattie hanno anche dei punti in comune che dal punto di vista del spesso chiamato amichevolmente o no dai colleghi praticone chimico che sarei io il medicinal chemist ci rendono più capaci perlomeno di pensare a strategie che non vadano verso una sola malattia ma possono magari impattarne più di una utilizzando dei meccanismi molecolari comuni. Per chi si spaventasse a sentire queste parole non ho intenzione di entrare in dettagli particolari ma piuttosto di restare da un punto di vista piuttosto generale. una delle cose che mi farebbe molto piacere illustrare è proprio la differenza nelle strategie terapeutiche che sono quelle di migliorare la qualità della vita del malato ma anche di migliorare e qui viene citando quello che diceva un attimo fa chi mi ha introdotto l'esperienza industriale che per me è stata i primi vent'anni lavorativi della mia carriera sia il beneficio per il paziente che il beneficio per la società quindi riduzione dei costi e riduzione dell'impatto sulle persone per esempio i cari per esempio i coloro che accudiscono le persone afflitte da questo tipo di malattie ci sono due grosse in maniere classi diverse di rimedi che si possono trovare quelli più comuni e più comunemente trovati che sono i cosiddetti sintomatici i sintomatici non curano la malattia curano i sintomi quindi se vogliamo fare un diagramma scientifico e se noi vediamo la curva rossa qui che è quella dello stato normale che mano a mano nella progressione della malattia diviene sempre più patologico un sintomatico che è la curva diciamo violetto fucsia qui non cambia la pendenza della curva quindi la malattia c'è e purtroppo quella malattia se la persona sopravvive a lungo è quella che lo porterà a condizioni piuttosto difficili viene rallentata la malattia che non è un risultato da poco non sto minimizzando questo certo che è diversa la prospettiva dei cosiddetti disismo di fires per dirlo all'inglese che io mi sono permesso di tradurre approcci causali quindi riuscire a fare qualcosa che tra virgolette come minimo perché non è un minimo sicuramente sia in grado di rallentare o addirittura bloccare la progressione della malattia quindi vedete questa curva azzurra dove la decaduta non è più così rapida e anzi è molto graduale quindi in questo caso non sarebbe semplicemente una questione di ritardare ma di bloccare la patologia se voi mettete questo insieme a metodi diagnostici migliori e più accurati trovando rapidamente la possibilità di avere una malattia di un certo tipo ed avendo dei rimedi di tipo causale si potrebbe praticamente far sì che la persona malgrado abbia già questi elementi di malattia all'interno del suo sistema nervoso non sviluppi il fenotipo patologico meglio ancora e qui andiamo veramente in cose forse un pochino azzardate al giorno d'oggi qualcosa che possa anche riparare quanto è stato perduto quindi riparare la popolazione neuronale che è stata impattata dall'una o dall'altra causa delle varie patologie quello di cui personalmente nel mio piccolo mi occupo è quello in cui si sta cercando sempre più però con delle eccezioni come vedremo tra un attimo di investire è il discorso dei disease modifiers quindi di approcci causali a me piace far vedere anche dei numeri proprio perché venendo da ambito industriale non inteso come chimica industriale ma aziende e multinazionali estere chiaramente il beneficio del paziente è il driver principale ma è altrettanto vero che se voi avete un farmaco eccezionale che potrebbe curare molto bene i pazienti che costa faccio un estremo un milione di euro al grammo non ci sarà nessun sistema sanitario o produttivo che è in grado di proporre un farmaco di questo tipo quindi bisogna anche stare molto attenti ai costi bisogna anche stare molto attenti al rapporto costi benefici se però pensiamo a queste cose di cui pochi parlano soprattutto guarda caso i giovani non parlano che sono le malattie neurodegenerative dell'età avanzata che si tende a mettere da parte pensando che vedremo se avremo questa sfortuna ce ne occupiamo qui stiamo parlando di incidenza quindi epidemiologia e stiamo parlando di costi costi intesi come farmaci ma costi intesi anche come costi per la società costi per chi vive in un pianeta popolato da persone che hanno che soffrono di questo tipo di problemi età di e qui prendiamo la malattia il morbo di alzheimer che è di gran lunga il più comune non è non sto venendo a dire che è il più importante come numerosità è il più importante quindi è un modello adeguato ce ne sono tantissimi altri ho dimenticato di dire prima che al giorno d'oggi che io sappia ci sono svariate centinaia di malattie neurodegenerative caratterizzate come diverse l'una dall'altra non vuol dire che le cause patologiche e la biochimica collegata sia diversa può essere la stessa proteina la stessa biochimica in due aree diverse del cervello e porta a diverse manifestazioni patologiche se parliamo di alzheimer se voi arrivate ad età oltre i 65 ma meglio ancora oltre i 75 anni vedete che stiamo parlando di più di un terzo della popolazione degli stati uniti ma anche degli altri paesi in molti paesi l'alzheimer non è diffuso perché la vita media è breve per vari motivi non è un rimedio valido questo questi paesi stanno aumentando la qualità della vita e la lunghezza della vita media anche loro porteranno acqua al mulino dell'alzheimer se voi guardate questa proiezione che va dal 2010 più o meno attuale al 2050 vi rendete conto di cosa ci aspetta qui stiamo parlando di milioni di persone che soffrono di alzheimer negli soli stati uniti d'america al giorno d'oggi abbiamo intorno ai 5 milioni abbondanti nel 2050 con le attuali proiezioni sapete tutti che l'icepan si allunga che il numero di nascite non è che stia veramente molto bene ultimamente quindi voi vedete che ci sono delle percentuali di persone malate che vanno a crescere notevolmente è molto bello vivere di più ma è ancora meglio vivere di più con una buona qualità della vita quindi quello dovrebbe essere l'obiettivo giusto per ricordarvi che se parliamo di demenza l'alzheimer è sicuramente il morbo più comune ma non è l'unico come vedete qui tra le demenze principali poco più di un terzo di queste è morbo di alzheimer conclamato ci sono altre patologie che danno fenomeni simili come fenotipo apparente quindi demenza però legata per esempio a demenza vascolare quindi problemi legati alla vascolarizzazione all'interno della scatola cranica piuttosto che demenza con l'uibodis che sono delle forme di parkinsonismo piuttosto che demenza collegata al morbo di Huntington piuttosto che demenza a fronto temporale quindi tutte queste sono altri tipi di patologie vogliamo finire con una nota ancora peggiore e più industriale questo è un grafico e vi chiedo di guardare solo i numeri che vi dice che se noi andiamo a vedere la distribuzione dei costi del care quindi dell'attenzione che siano farmaci che sia affiancamento di badanti che siano hospice che siano cose di questo tipo per tipo di pagamento e qui abbiamo medicare e medicaid soprattutto quindi sistemi sanitari americani di assicurazione all'interno degli Stati Uniti d'America per persone dai 65 anni in su abbiamo 277 miliardi di dollari di spesa annua quindi se noi con la bacchetta magica trovassimo domani un farmaco che può venire approvato dalla Food and Drug Administration dall'Emea da noi che è in grado di curare l'Alzheimer di un colpo calceneremo questo tipo di costi quindi alle persone che mi dicono questa ricerca costa troppo a me viene da dirgli ma prova a guardare questi numeri e se non ti impressionano questi guarda questi sembriamo paperon de paperoni vi ricordate il paperone che fa i bagni nei dollari nei triliardi fantastiliardi 47,1 trilioni di dollari che quindi sono 47.100 miliardi di dollari è la spesa stimata negli Stati Uniti di America come costo globale di queste persone dei sofferenti di Alzheimer non di tutte le patologie c'è gente che fa di queste statistiche con basi più o meno solide e al giorno d'oggi si parla di circa 900 trilioni di dollari come costo del pianeta per queste persone inteso come farmaci qualità della vita lo stress sulle persone che devono accudire la perdita di lavoro gli ospice e tutto quanto quindi queste sono le cifre e questi sono i costi che sono in aumento quindi io mi permetto di dire che questa dovrebbe essere e uso il condizionale perché non mi sembra che lo sia spesso dovrebbe essere uno dei driver maggiori della ricerca e di decisioni politiche per cercare di rendere più sostenibile una cosa che ritengo debba interessare a tutti che sarebbe la sostenibilità della vita dell'uomo sulla terra perché o facciamo in modo di ridurre la vita media delle persone ma non è una cosa positiva altrimenti ci troveremo sempre più a fronteggiare questo tipo di problemi a meno che troviamo delle maniere di risolverli non sono qui a dire che tutto questo non sta succedendo ci sono molte attività in corso ci sono molti gruppi di ricerca che lavorano in questo settore molte aziende industriali non lo fanno perché come si diceva prima il rischio non vale la candela non ci sono farmaci disease modifier causali approvati per la terapia di Alzheimer per il morbido di Alzheimer non perché la gente non li abbia cercati perché non si è riusciti a trovarli quindi non è facile quindi se io sono un'azienda con come scopo il profitto forse vado a investire in altri settori dove io ho qualche dubbio di più su strategie politiche e dal punto di vista pubblico secondo me ci vorrebbe un'incentivazione maggiore mi fermo qui perché se no tendo un pochino a divagare per quanto riguarda i meccanismi si diceva prima centinaia e centinaia di malattie neurodegenerative molte di queste non tutte ma molte la maggioranza hanno in comune un fenomeno che fa parte di una ben noto di un ben noto come dire accadimento biochimico che coinvolge le due discipline che personalmente mi hanno sempre appassionato nella mia ricerca che sono la biologia e la chimica parliamo di proteine parliamo di proteine che vengono biosintetizzate all'interno dell'organismo codice genetico ribosomi sintesi di queste catene di amminoacidi che sono le proteine più o meno lunghe e in prima battuta vengono sintetizzate in questa maniera come è scritto qui unfolded quindi non ripiegate come catene e queste catene al di là che sono fatte dai costituenti giusti non hanno alcuna funzione non sono in grado di funzionare una proteina per poter funzionare deve fare il cosiddetto folding quindi un ripiegamento quindi una struttura tridimensionale parliamo di struttura secondaria terziaria quaternaria che permetta alla proteina di avere le giuste interazioni tra i suoi componenti e di se è un enzima sviluppare un sito attivo che è quello in cui si lega il substrato se è un recettore sviluppare dei siti di legame dove vanno dei ligandi dei messaggeri a legarsi e quindi promuovere una serie di fenomeni fisiologici necessari qual è il problema il problema è che a volte dopo essere stata biosintetizzata la proteina invece di ripiegarsi correttamente subisce il cosiddetto misfolding quindi si ripiega in maniera non corretta per i teorici chimici o fisici e persone lontane dalla mia esperienza se parliamo di folding parliamo di interazioni molecolari all'interno di molecole complesse che tendono a diminuire l'energia della proteina quindi ci sono delle pathway di ripiegamento a partire dalla proteina lineare che vanno verso lo stato finale corretto della proteina funzionale ci sono però delle patrie energetiche non corrette che portano questa proteina non solo a non funzionare più che già sarebbe una cosa difficile da reggere ma molto spesso anche a sviluppare tendenze patologiche una delle più classiche avrete probabilmente sentito parlare delle fibrille amiloidi l'amiloidogenesi è il fenomeno di aggregazione di proteine misfoldate e l'archetipo di tutto questo è la proteina amiloide le placche di amiloide beta che portano che sono un punto di riconoscimento del morbo di alzheimer ma ci sono molte altre proteine io personalmente lavoro sempre sulla proteina che si chiama tau che è un altro componente della patologia dell'alzheimer ma ce ne sono tante altre quindi voi avete degli aggregati proteici che portano degli effetti tossici come dicevo di due tipi entrambi importanti uno la mancanza della proteina funzionale che porta a problemi legati appunto agli ruoli di questa proteina all'interno del neurone e l'altro l'aggregazione di queste proteine che continuando in maniera cronica nel tempo porta a volte addirittura a far esplodere il neurone che viene riempito dalla proteina tau di turno o altre proteine di questo tipo entrambe le cose sono molto tossiche io personalmente lavoro molto nel campo del misfolding quindi i miei obiettivi molecolari quindi le proteine bersaglio del lavoro che si fa nel mio gruppo sono proteine che in situazioni di neurodegenerazione incombente o in corso funzionano male e non permettono di liberarsi delle proteine misfoldate se voi non vi liberate di queste ovviamente queste restano è come quando non si spazza in casa cosa che quando ero giovane scapolo facevo spesso dopo qualche mese uno guarda sotto il tappeto e trova delle schifezze di tutti i tipi è chiaro che uno deve fare pulizia quindi il nostro organismo ha dei sistemi di pulizia giusto per finire il discorso sulle proteine misfoldate più classiche qui ne vedete alcuni esempi e come vedete ci sono delle frecce multiple malattie ben note come il morbo di alzheimer il parkinson la malattia della mucca pazza o encefalite spongiforme per chi preferisce il termine ma anche malattie non del sistema nervoso come l'amiloidosi da transtiretina hanno come caratteristiche il fatto che ci sono delle proteine con delle zone specificamente poco ordinate che tendono ad assumere il foglietto beta il beta sheet e ad aggregare l'una con l'altra a formare aggregati di amiloide comune a parkinson ma soprattutto alzheimer tau comune a tantissime malattie sinucleina parkinson il prione la proteina prionica e molte altre questa diapositiva dovrebbe tranquillizzare molti perché è una diapositiva che vi mostra sempre solo per l'alzheimer che prendo come esempio quante molecole ci sono in sviluppo clinico sviluppo clinico cosa vuol dire? hanno superato tutta la fase preclinica sono state autorizzate dalle varie agenzie regolatorie di poter entrare nella sperimentazione clinica e come vedete ci sono moltissime molecole in fase 1 fase 2 fase 3 alcune di queste molecole sono dei disease modifiers alcune altre sono sintomatici ma uno vede un portafoglio di questo tipo e dice beh la ricerca sta lavorando molto effettivamente è vero qui abbiamo il quadro degli agenti in fase 2 quindi inizio di terapia e di efficacia sui pazienti qui abbiamo addirittura la fase 3 che è sperimentazione avanzata in pazienti e come vedete il disease modifiers la fa da padrone ci sono ancora però molti sintomatici ora vi devo mettere due sole righe un pochino più pessimiste avete visto un sacco di slide molto ottimiste probabilmente queste due righe non vi colpiranno o vi colpiscono nonostante tutta questa ricerca negli ultimi 15 anni non siamo riusciti a mettere uno straccio di molecola in clinica non in clinica sperimentazione ma a disposizione del paziente perché non si è ottenuto pur avendo fatto un sacco di studi e speso un sacco di soldi alcunché che potesse definirsi un farmaco adeguato per la cura di Alzheimer quando iniziai ad occuparmi seriamente in Germania di queste cose che quasi una ventina di anni fa esistevano 4 sintomatici terapeutici disponibili per Alzheimer a basare Doné, Pezzile e alcune altre molecole se mi chiedete al giorno d'oggi quante ce ne sono di più vi do solo un suggerimento meno di una non ci sono altri farmaci di questo tipo quindi è chiaro che da una parte c'è una spinta forte legata a quello che sta succedendo dall'altra dal punto di vista terapeutico per riuscire ad abbassare questi costi e questo bisogno unmet medical need per le persone è chiaro che bisogna trovare qualcosa di nuovo io non posso da chimico medicinale o medicinal chemist pretendere di trovare qualcosa che a breve vada sul mercato ma il lavoro su nuovi meccanismi è chiaramente molto importante perché lavorando su meccanismi più o meno consolidati fino ad oggi non si è riusciti a tirare fuori granché in questi settori questi sono tre progetti che io qui ho elencato che sono tre progetti nei quali il mio laboratorio ovviamente per quanto riguarda dalla parte di medicinal chemistry ed altri gruppi che sono essenzialmente il CNR l'ospedale San Raffaele il Federico II di Napoli e l'università di Trento il dipartimento Cibio con altri colleghi di estrazione biologica o strutturistica stiamo lavorando in alcune aree di questi tre progetti sicuramente non riuscirò a parlare di questo che è interessante ma ho messo tra parentesi perché come probabilmente avete notato tendo ad essere un po' logorroico quindi nelle introduzioni mi spingo un po' in là riesco però credo proprio a dirvi qualcosa per quanto riguarda questi due che sono un po' un discorso di alfa ed omega uno molto innovativo come target come bersaglio molecolare come meccanismo non ancora sfruttato e portato avanti fino a sperimentazione in vivo brevettazione di molecole interessanti quest'altro invece è basato su una molecola di origine naturale ben nota da tanto per cercare di renderla utile per scopi sempre legati a malattie neurodegenerative essendo chimico ogni tanto qualche struttura chimica il professor Majorana mi ha detto meno possibile qualcuna ogni tanto mi scappa proprio perché noi chimici se non vediamo qualche struttura chimica ogni tanto poi ci sentiamo anche poco bene vi parlo di questo amminoguanidilidrazone che come vedete ricorre per due di questi tre progetti è una molecola carica le molecole cariche sono utili molto spesso per tanti motivi interazioni molecolari sono anche utili per dare solubilizzazione in acqua a molecole organiche che è una cosa utile per avere dei farmaci biodisponibili qual è il problema? molto spesso le molecole cariche se parliamo soprattutto di molecole che debbano avere un'attività a livello del sistema nervoso devono attraversare una delle barriere più difficili da superare del nostro organismo che è la barriera ematoencefalica o blood brain barrier e questa barriera è molto poco permeabile a gruppi carichi quindi da una parte voi avete piacere se ci sono molecole cariche perché questo dà solubilità e certo tipo di caratteristiche dall'altra parte questo spesso previene la penetrazione allora perché l'amminoguanidilidrazone è una specie di valido compromesso tra penetrare una barriera lipofila ma avere solubilità per il PK quindi la percentuale di ionizzazione qual è il PK adeguato se voi avete un pH intorno a 7,3 7,4 che è quello del nostro organismo voi avreste piacere di avere molecole che intorno a questo pH non siano troppo cariche perché se sono molto cariche non riescono a passare la barriera ematoencefalica quindi più il PK di queste molecole si avvicina a 7,5 e più questa molecola è probabilmente è capace di penetrare attraverso membrane lipofiliche voi vedete alcuni gruppi carichi utilizzati in molte farmaci disponibili al giorno d'oggi come la guanidina e l'amidina per esempio che sono gruppi molto stabili quindi metabolicamente nessun problema però vedete che il PK è intorno a 9 10 12 13 quindi troppo alto queste molecole sono molto cariche fanno fatica a penetrare la barriera ematoencefalica altre molecole come l'isotiurea che vedete qui sono meno basiche quindi da questo punto di vista meglio però una molecola del genere metabolicamente è spesso poco stabile le aminoguanidil idrazzoni hanno entrambe queste caratteristiche positive e non lo dico solo io qui ma lo dice anche il fatto che esistono vari farmaci attualmente in commercio una molecola che si chiama guanabenz che è un antidepressivo che contengono una o più di queste funzionalità e che sono BBB compliant quindi permeabili alla barriera ematoencefalica quindi noi spesso nei nostri lavori quando possibile quindi razionalmente cerchiamo di introdurre gruppi di questo tipo e stiamo parlando appunto di questo primo progetto che ha a che fare con delle piccole molecole quindi classico farmaco potenziale relativamente semplici come vedrete mirate razionalmente verso un meccanismo terapeutico il meccanismo terapeutico ha a che fare con un sistema molto complesso che all'interno di cellule in particolare di neuroni è sfruttato per la qualità della sopravvivenza della linea cellulare stessa che è il protein quality control quando ci sono delle proteine misfoldate o danneggiate questo sistema è la ramazza di cui si parlava prima le riconosce le blocca e le elimina ci sono moltissimi pathways molecolari che portano a questo risultato ubiquitinazione per gli esperti piuttosto che proteasoma piuttosto che autofagia un sistema relativamente poco sfruttato fino a poco tempo fa ha a che fare con un complesso proteico quindi un sistema multiproteico che si aggrega e che si chiama retromero il retromero è un complesso proteico fatto da una decina di proteine che si arrangiano in una maniera particolare tre di queste proteine si chiamano cargo recognition complex quindi riconoscono i difetti nelle proteine le catturano se le prendono come un cargo all'interno di un camion e le portano nell'appropriato organello all'interno della cellula che in questo caso è il transgolgi il transgolgi network e lì queste proteine vengono inattivate in senso patologico e molto spesso vengono anche riciclate quindi frammentate distrutte i mattoncini che le costruiscono quindi gli aminoacidi che serviranno per farne altre vengono recuperati e riciclati quando la cellula funziona bene il retromero si forma e funziona come voi sapete sicuramente se non lo sapete ve lo dico io non è che il sistema di sintesi proteica sia infallibile anche nelle cellule giovani qualche errore ogni tanto capita questi sistemi quindi sono fisiologici perché quei pochi eroi che succedono se ne sbarazzano invecchiando la qualità dei processi cellulari cala soprattutto nelle cellule posmitotiche che non soffrono che non dovrebbero soffrire a postopptosi e che sopravvivono a lungo tempo quindi i neuroni sono un tipico esempio e quindi per esempio in varie malattie neurodegenerative posso sicuramente citare il Parkinson posso sicuramente citare l'Alzheimer posso sicuramente citare ed è l'obiettivo terapeutico nostro la sclerosi laterale amiotrofica il morbo di Lugherig il morbo degli sportivi in queste malattie è stato osservato che il retromero non funziona bene e tutto ciò è soprattutto dovuto al fatto che questa combinazione tra questa parte che è il cargo selective è non enormemente stabile e quindi quando c'è un calo della quantità di ognuna di queste proteine disponibili il retromero si assembla male e quindi funziona male quindi è stato osservato una diminuzione del trasferimento delle proteine verso il trans-golgi network e questo porta a un aumento della accumulazione proteica per esempio la sinucleina nel caso del Parkinson l'amiloide nel caso del Alzheimer TDP43 nel caso della sclerosi laterale amiotrofica e così via sono qui a dirvi che questo è il motivo principale per cui queste malattie avvengono non lo possiamo dire però posso dirvi che è provato a livello in vitro che influenzando e riuscendo a ripristinare le quantità di retromero a stabilizzarlo quindi a farlo funzionare diminuisce l'accumulo proteico e in sistemi cellulari almeno questo porta a una stabilizzazione allungamento della vita dei neuroni questa era la situazione che avevamo noi quando abbiamo cominciato a lavorare siamo arrivati un pochino dopo come vi faccio vedere tra un attimo noi chimici amiamo dirci razionali non siamo spesso razionali però al giorno d'oggi avendo colleghi che fanno modellazione possiamo anche costruire dei modelli validi queste sono due delle tre proteine costituenti il recognition core da retromero questo non è un modellino creato a caso ma è un modellino che deriva da struttura e raggi X e qui vedete inserita questa piccola struttura all'interfaccia tra queste due proteine che si chiama R55 una piccola molecola organica al giorno d'oggi la razionalità è combinata con il cosiddetto high throughput quindi siamo in grado di testare molte molecole su ipotesi biologiche e quindi con un appropriato screening si è identificato che questa piccola e semplice molecola è in grado di legarsi tra questi due entità proteiche e così facendo funziona da chaperon lo chaperon è uno stabilizzatore quindi queste due proteine restano legate l'una all'altra più facilmente in presenza di questa molecola e questo fa sì che il retromero funzioni meglio in sistemi cellulari questa molecola è in grado di stabilizzare il retromero e inducendo misfolding e accumulazione proteica è in grado di far sì che queste proteine si libere e vengano eliminate allora noi cosa si è fatto? abbiamo guardato questa molecola che ripeto non è difficile e abbiamo suddiviso questa molecola in due ovvie parti c'è un nucleo centrale che è un eterociclo questo ciclo A5 che si chiama tiofene e ci sono due catenelle che sono questi gruppi iso-ureidici carichi il modello che abbiamo e lo studio che è stato fatto ci permette di capire non solo che si incastra qui questa struttura ma anche quali sono le interazioni molecolari tra i diversi gruppi quindi è necessario avere due gruppi carichi in questa posizione è necessario avere una distanza tra questi gruppi ed è necessario avere una core uno scaffold come dicono gli inglesi un'impalcatura centrale a cui le due braccia si attaccano noi con delle sintesi e sottolineo sempre qui il numero di passaggi senza mostrarli perché quello che spero notiate sono sintesi molto semplici esistono farmaci che richiedono 30 passaggi di reazione per essere sintetizzati questi personalmente non mi interessano a me interessano cose semplici perché lo scopo non è di fare la chimica più complicata e bella possibile ma è di fare qualcosa che sia semplice da ottenere e possa se mai si verificherà interessante venire rapidamente traslato in un potenziale farmaco quindi abbiamo fatto sei molecole modello modificando una due o tutte e tre queste condizioni il motivo per cui non ve le faccio vedere non è ad insultare la vostra capacità di vedere la chimica è che stiamo brevettando queste molecole e quindi mi è stato detto più volte giustamente che non le posso far vedere fino a che il brevetto che stiamo finendo di scrivere non è riportato queste molecole come vengono assaggiate una linea cellulare neuronale questa linea cellulare viene mutata si introduce una proteina collegata con la sclerosi laterale amitrofica con una mutazione che la rende non capace di fare quello che deve fare ma di aggregarsi quindi si induce aggregazione si aggiunge questa molecola e si vede quanto è il livello di VPS 35 e quanta è la sopravvivenza delle cellule se VPS 35 aumenta e le cellule sopravvivono di più vuol dire che sta facendo qualcosa di positivo questo è lo screening quindi il saggio biologico che utilizziamo sulle nostre molecole vedete qui anche il topino siamo arrivati anche in vivo due delle nostre molecole parliamo di in vitro quindi in sistemi cellulari due delle nostre molecole 1A e 2A come vedete sono in punti ogni punto di questo è uno sporimento separato che portano a una stabilizzazione della proteina VPS 35 significativa per 1A soprattutto rispetto a 2A questo è in vitro in sistemi cellulari si dà nel mezzo la molecola e si vede se le cellule esprimono più VPS 35 noi abbiamo fatto qualcosa di più siamo andati nell'animale nell'animale si può geneticamente indurre la stessa mutazione genetica quindi è una proteina che provoca lo sviluppo della scelosi laterale amiotrofica e qui in questo caso come vedete la situazione è sempre molto buona perché c'è una molecola molto più attiva del livello basale ed è l'altra molecola quindi si inverte l'attività delle due molecole perché perché una delle due molecole quella che funziona di più senza potervi fare vedere la struttura contiene questa aminoguanidilidrazone di cui vi parlavo prima quindi penetra molto bene all'interno della barriera ematoencefalica pur essendo meno potente come affinità per il suo target penetra molto meglio e quindi ce n'è molto di più dentro e quindi overcompensa il fatto di essere meno attiva in poche parole questa molecola è molto interessante abbiamo fatto svariate analisi in vitro e poi siamo andati in vivo abbiamo fatto un PK che è una farmacocinetica che è quella che ci ha fatto vedere questo risultato quindi la molecola è più biodisponibile ed attiva ma abbiamo anche fatto un saggio di efficacia questo valore 1,95 significa che in presenza della molecola 2A noi abbiamo il doppio di quantità di retromero funzionante quindi è come se voi aveste raddoppiato l'attività del retromero che si stava degradando e di colpo la situazione dell'aggregazione proteica migliora notevolmente dimenticavo di sottolineare abbiamo sintetizzato una ventina di molecole ispirate a questa prima 2A e come fanno i chimici di nuovo senza farvi vedere le molecole abbiamo generato dei dati che ci portano a una SIR che sta per relazioni attività struttura abbiamo modificato le nostre strutture e vi sottolineo di nuovo da 1 a 5 6 7 passaggi di reazione quindi sempre sintesi molto semplici vedete dei numerini qui questa era la molecola di letteratura la nostra è molto meglio questa aumenta del 50% la nostra del 100% abbiamo trovato altre molecole un pochino più complicate ma non troppo che arrivano a 2 volte e mezzo l'attività del retromero quindi sappiamo come modificare lo scaffol centrale della molecola poi abbiamo fatto altri derivati che sono addirittura ancora più potenti che stiamo caratterizzando e quindi ci troviamo con delle molecole apparentemente molto interessanti la prima che abbiamo fatto che raddoppia il retromero l'abbiamo usata in vivo per vedere se effettivamente questa idea di target molecolare poi si trasferisce in un beneficio terapeutico per una specifica malattia la sclerosi laterale amiotrofica per cui come probabilmente sapete non esistono farmaci veramente disponibili al giorno d'oggi c'è qualcosa ma persone come Stephen Hawking persone come Borgonovo il calciatore del Milano della Fiorentina insomma non hanno un'aspettativa di vita molto buona prima di tutto la nostra molecola non ha effetto sull'espressione della proteina quindi non andiamo a toccare la parte genetica non andiamo a toccare DNA o RNA poi la nostra molecola sottoposta in presenza di cellule neuronali normali non cambia la cell viability quindi la nostra molecola non ha fenomeni di tossicità data da sola quello che è importante è questa barra rossa la barra rossa con questo G93A è una mutazione puntuale di una proteina che è la superoxide dismutase 1 che è una mutazione comune alla sclerosi laterale amiotrofica quando voi ponete questa proteina all'interno del modello animale come vedete o cellulare in questo caso la cell viability cala molto perché cala? perché la proteina tende ad aggregare aggregandosi disturba i processi cellulari e porta eventualmente alla morte cellulare quando voi usate questa stessa linea cellulare che tende a morire e gli aggiungete la molecola 2A voilà torniamo a livelli quasi normali quindi la nostra molecola è capace nelle cellule di riportare attraverso distruzione degli aggregati a una situazione adeguata non lo si vede semplicemente in maniera così grezza a livello della vita cellulare prolungata ma si vede anche a livello per esempio della morfologia del transgolgi che vi dicevo è l'organello a cui il retromero porta le cose da degradare senza voler entrare in dettagli che non mi competono perché non sono un biologo magari qualcuno qui conosco colleghi molto in gamma nel settore potrebbe criticarvi vi prego di guardare soprattutto il grafico qui in cui voi avete cellule normali in cui la gran parte del golgi ha una morfologia normale e il golgi diciamo così non funzionale è minoritario vedete questo tipo di andamento ad L quando voi introducete questa mutazione vedete che gran parte del golgi non è più normale e aumenta il golgi non funzionale trattando con la nostra molecola vedete che il grafico è diverso lo potete vedere anche qui praticamente parlando questo che è il wild type assomiglia molto di più a questo che è il mutato più la nostra molecola di quanto non assomiglia al mutato da solo i topini nei topini voi potete ricreare la sclerosi laterale emeotrofica di origine genetica derivante dalla mutazione G93 di Sod1 voi fate sviluppare la malattia nei topini che cominciano a trascinare le gambette dietro prima e poi diventano sempre più immobilizzati dopo 30 giorni di età di questi topini appunto geneticamente mutati voi cominciate per 70 giorni una volta al giorno a dargli 10 mg chimio che non è una dose enorme della nostra molecola dal giorno 30 al giorno 100 dopodiché al giorno 100 vengono sacrificati per guardare l'istologia e vedere cosa è successo quindi noi li abbiamo analizzati in due maniere prima di tutto il peso che non è una caratteristica scelta a caso quando si perde peso si comincia a pensare che magari c'è qualche piccolo problema non posso negare qui che ci sia una minima perdita di peso ma non è una perdita di peso mi dicono i colleghi significativa quindi i topini arrivano ai 100 giorni di età senza particolari problemi questo è un apparato che si dice viene chiamato rotarod quindi c'è una barra il topino viene messo su questa barra la barra comincia a girare e si vede quanto il topino riesce a restare in equilibrio voi avete una malattia dei motor neurons quindi più il topino perde capacità di avere equilibrio più rapidamente cade dalla barra quindi quello che succede è che vedete qui qui vedete il wild type quindi il topino normale e questa è la latency quanti secondi passano dal momento in cui lo mettete lì e lui cade il topino normale ha una certa latency che resta costante perché lui non è neurodegenerato e anche in presenza della nostra molecola sul topino normale non malato la latency resta lo stesso vi prego ora di guardare invece i puntini rossi qui i puntini rossi vi fanno vedere che nel topo mutato questa latency cala perché il topino piano piano che la malattia progredisce comincia ad avere sempre maggior numero di problemi a livello dei motor neurons e quindi perde capacità di equilibrio vedete invece i pallini verdi che sono quelli della nostra molecola il topino fino ai 100 giorni che sono già un momento in cui il fenotipo dovrebbe essere molto patologico non ha problemi di equilibrio un'altra cosa carina che abbiamo fatto che non è direttamente legata al fenotipo ma alla quantitazione della molecola abbiamo verificato nei primi giorni di iniezione della molecola nei topini che effettivamente noi vediamo abbiamo messo a punto dei metodi analitici sofisticati un aumentare della concentrazione del principio attivo all'interno del cervello quindi c'è un accumulo piano piano che ci torna col fatto che la molecola ha un effetto terapeutico e ancora di più di nuovo senza entrare in dettagli vi chiedo di guardare queste due diapositive per quanto riguarda queste sezioni del midollo spinale lombari motor neurons produzione di acetilcolina come vedete questo è il bianco il wild type questo è il patologico molto diverso e come vedete il trattato con la nostra molecola tende a tornare verso la posizione del del wild type quindi la nostra molecola funziona qui avete delle sezioni di fibre mieliniche e qui vedete il wild type che è molto più simile al mutato trattato con la nostra molecola che al mutato senza molecola quindi abbiamo un effetto terapeutico sui topi abbiamo degli effetti biochimici collegabili al funzionamento del retromero diciamo che chiaramente la nostra molecola che si fa in un passaggio di reazione a partire da due reattivi che ve li tirano dietro che non è una cosa negativa secondo me ma è una cosa positiva potrebbe avere una certa rilevanza questa è la prima molecola adesso ne abbiamo di più potenti verranno testate anche quelle come sempre nel pubblico visto che siamo enti pubblici abbiamo bisogno di finanziamenti nel momento in cui il brevetto sarà finalmente depositato e sistemato allora potremo cominciare ad andare a parlarne cominceremo a cercare di interessare aziende farmaceutiche per vedere di poter sviluppare tutto questo vediamo che punto siamo speravo di riuscire a farvi vedere due progetti riesco a farvene vedere uno solo sono interessanti anche gli altri spero mi crediate sulla parola vado proprio gli ultimi minuti allora un po' più avanti saltando questo che è un corollario del progetto che abbiamo appena visto che ha a che fare appunto con questa pathway abbiamo depositato un brevetto che sta per essere appunto l'abbiamo passato ai nostri consulenti e lo stanno per registrare all'EPO all'European Patent Office l'altro progetto di cui vi chiedo magari non più di un 5 minuti ha a che fare con una molecola ben nota a tutti che si chiama trealosio è uno zucchero naturale il trealosio è uno zucchero particolare fatto da due unità di glucosio legate alfa alfa è un legame un po' strano che è un chemical chaperon voi prendete questa molecola funziona un po' come il paraflu come l'antigelo è una molecola che se si mette vicino a delle proteine tende a stabilizzare le proteine anche in condizioni per esempio di temperatura estrema freddo o caldo è uno stabilizzante tende a complessare e a stabilizzare è una cosa nota ed è un antiaggregante anche queste sono placche di amiloide in presenza di concentrazioni di trealosio e in presenza di queste concentrazioni di trealosio elevate ne parleremo tra un attimo le placche di amiloide si disgregano quindi ha un effetto chimico fisico antiaggregante in più recentemente si è scoperto che influenza un altro processo importante da un punto di vista meccanicistico che è l'autofagia l'inglobazione di detriti e il trealosio stimola l'autofagia quindi è una molecola interessante origine naturale anche questa 100 grammi costano 20 euro cheap non toxic naturally occurring non nell'uomo l'uomo non biosintetizza trealosio lo fanno nessun mammifero lo fanno soprattutto gli insetti e altre fonti vegetali qual è il problema? è una molecola molto idrofila per essere attivi dovete andare a 100 millimolari se vi chiedete cosa vuol dire 100 millimolari vuole dire che per trattare una malattia dovete prendere 10 grammi di trealosio al giorno sono delle dosi spaventose non adatte questo perché la molecola è poco biodisponibile ma soprattutto perché noi abbiamo nei nostri villi intestinali un enzima che si chiama trealasi che è fatto apposta per spaccare il trealosio perché in due unità di glucosio che usate come energia quindi far passare il trealosio è molto dura in quelle quantità allora quello che noi abbiamo fatto è stato cercare di modificare chimicamente il trealosio per farlo diventare non riconosciuto dalle trealasi e andare dentro sperando che funzionasse a dosi molto più basse e poi lo abbiamo usato come agente coniugante chaperon per altre molecole biologicamente attive su questo tipo di target per cercare di far diventare queste molecole problematiche più solubili biodisponibili e anche con l'effetto chaperon su questo abbiamo lavorato tanto abbiamo fatto tanta chimica abbiamo ottenuto vado solo all'ultimo dei risultati abbiamo ottenuto con delle chimiche abbastanza interessanti e note ma sempre non troppo complicate perché la nostra speranza è sempre quella di fare qualcosa di producibile industrialmente se possibile abbiamo ottenuto questa che i nostri colleghi di Trento chiamano la magic molecule quindi gli è piaciuta la chiamano la magic molecule può sembrarvi non eccezionale come guadagno però siamo passati dal trealosio che per essere attivo sull'autofagia questo è un marker di autofagia richiede una concentrazione di 100 millimolare la nostra magic è attiva a 2.5 millimolare quindi abbiamo già guadagnato cos'è? 40 volte di attività ovviamente adesso stiamo proseguendo stiamo facendo anche non l'ho fatto vedere qui molecole coniugate col trealosio che hanno attaccata una biotina che ci servono come marker biologici per andare a capire dove il trealosio si attacca come funziona e avere idee migliori su come poi modificarlo in futuro l'ultima cosa che volevo dire è che stiamo anche lavorando a punto di vista nanoparticellare facendo dei nano coniugati del trealosio con una molecola organica che si chiama squalene che tendono a formare delle nanoparticelle lipofiliche e queste nanoparticelle sintetizzate da derivati dello squalene sono state coniugate al trealosio e stiamo adesso verificando la loro attività nei vari saggi di sclerosi laterale amiotrofica piuttosto che di altre cose quindi tante attività andando verso la biologia innovativa o anche molecole di semplice utilizzo rese possibili da voglia di lavorare da ragazzi in gamba che vedete qui che hanno lavorato con me e da persone con cui è stato un piacere collaborare al CNR qui stiamo parlando soprattutto di strutturistica e analisi modellistica ospedale San Raffaele la divisione di neuroscienze gestita dal professor Martino varie persone con cui abbiamo lavorato il professor Piccoli dell'università di Trento e il professor Annunziato e Pignataro dell'università di Napoli e grazie ancora a voi per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti le domande che sicuramente ci saranno la parola adesso al professor Massimo Masserini dell'università di Milano di Bicocca anche il professor Masserini ha una vasta esperienza di ricerca in diverse parti del mondo particolarmente negli Stati Uniti prego e abbiate pazienza un attimo perché pensavo ci fossero le domande e avevo spento il computer e facciamo tutto in una volta Aspettate così faccio partire la presentazione questo istituto Lombardo e qua chiuso il tele presentazione facciamo facciamo questo ok bene buongiorno e comincio con i ringraziamenti ringrazio ovviamente per questo invito sia il presidente che il professor Majorana e sono particolarmente contento perché stavo dicendo prima non so se al presidente o al professor Majorana che io sono venuto qua a fare una relazione 40 anni fa che è una vita se ci pensate per cui sono particolarmente contento di poter essere tornato l'argomento di cui parlo oggi è 40 anni fa non c'era questa scienza che è la nanomedicina è nata ufficialmente intorno al 1995 quindi 40 anni fa non esisteva ancora almeno esisteva degli strumenti che si usano ma non venivano chiamati con questo nome sta dicendo comincio con i ringraziamenti il secondo ringraziamento va al professor Sedeci che non sa perché perché quando mi hanno detto di parlare di nanomedicina ho accettato ovviamente con piacere ma mi sono anche posto questo problema io faccio un corso di nanomedicina a medicina laurea sanitaria di Milano Bicocca che dura 48 ore quindi fare in 40 minuti la nanomedicina è un problema che ho risolto elegantemente semplificandolo quindi la presentazione è molto semplice oh scusa Giorgio semplificando molto la presentazione e poi ho scoperto anche che collaboro con il professor Seneci ma lo sapevo perché il mio ricercatore la mia ricercatrice che è Francesca Re e che ringrazio perché poi non ci sono i ringraziamenti sta collaborando con il professor Seneci allora cominciamo da qua nanomedicina come come approccio la nanomedicina è un è una branca delle nanotecnologie quindi fa uso di strumenti che hanno una scala intorno ai nanometri questi strumenti sono programmabili sono biocompatibili e hanno portato a una possibile nuova ha delle nuove strategie applicabili nel campo medico e clinico senza offendere nessuno qui c'è una semplificazione della scala di cui stiamo parlando il nanometro è una miliardesima parte del metro quindi stiamo parlando di cose estremamente piccole un nanometro rispetto al metro è come dire un millimetro confrontato con i mille chilometri che stanno tra Milano e Taranto ok quindi si tratta di strutture talmente piccole che non si possono vedere neanche col microscopio per poterle vedere ci vuole un microscopio elettronico perché altrimenti il potere di risoluzione dei microscopi normali non permette di vederle ora perché è nata la nanomedicina la nanomedicina è nata perché il concetto applicato e che giustifica o che può giustificare l'uso della nanomedicina è questo perché usare degli strumenti di scala nanometrica perché se andate a guardare io sono un biochimico di estrazione e anche di insegnamento se andate a guardare come funzionano i meccanismi molecolari nel nostro organismo si tratta di macchine cioè non esiste mai un enzima o una proteina che opera da sola sono concertate fra di loro formano degli aggregati degli insiemi che cooperano per sviluppare un certo processo metabolico e questi hanno una dimensione che è nanometrica quindi il concetto è se noi vogliamo riparare qualcosa che ha una dimensione nanometrica cioè le macchine molecolari dovremmo usare degli strumenti che hanno una dimensione simile per capire perché se voi andate dal meccanico e volete smontare un bullone del motore non usereste mai una pinzetta usereste una chiave inglese che ha la stessa dimensione le dimensioni delle nanostrutture sono simili a quelle delle macchine molecolari quindi questo è il concetto che può stare alla base qualche informazione come dicevo la nanomedicina è una branca una gemmazione della nanotecnologia la nanotecnologia è stata inventata come termine da un premio Nobel Feynman e stiamo nel 1959 là c'era solo la nanomedicina quindi la nanomedicina scusate la nanotecnologia c'era soltanto nel 59 che ha immaginato che a livelli di queste dimensioni di queste scale si potesse operare sia a livello tecnologico che a livello poi ovviamente anche biotecnologico in realtà come vi dicevo qualche strumento che si usava in medicina e che è dell'ordine dei nanometri esisteva già nel passato non si sapeva questa informazione perché come potete leggere qua ma ve lo riassumo nel 1800 si usava oro colloidale ok veniva chiamato così per curare tutto quindi praticamente come voi capite non aveva una grande efficacia terapeutica però si usava e si vendeva per curare artrite reumatismi vorsiti tendiniti alcolismo disturbi digestivi obesità ustioni cioè un po' di tutto nel 1900 l'argento colloidale si usava come germicida si usa anche adesso ma il succo di questo è questo nel 1800 inizio del 1900 c'erano già delle nanoparticelle e quindi era già nanomedicina ma nessuno lo sapeva perché non esisteva ancora il microscopio elettronico e quindi non si sapeva cos'era forse questo oro colloidale erano nanoparticelle poi nel 65 sono nate le prime nanoparticelle biologiche che si chiamano liposomi a base di lipidi anche queste sono nate per caso perché l'inventore di questo stava veramente facendo delle creme di bellezza per una ditta e poi voleva testare il microscopio elettronico e ha inventato queste strutture poi l'ha vista il microscopio elettronico e ha scoperto che erano nanoparticelle c'è un film che non so se avete mai visto ma è molto istruttivo e direi anche ancora abbastanza attuale nonostante siano passati tanti anni perché racconta di una equip di chirurghi che andavano a rimuovere un coagulo di un politico che aveva avuto un ictus avevano un'ora di tempo perché a quei tempi si poteva rimpicciolire l'equipaggio e il sommergibile ma come voi potete capire è un film di fantascienza c'era soltanto un'ora di tempo altrimenti poi tutto si tornava a dimensioni normali quindi sono entrati dentro nel sangue hanno pinneggiato sono usciti dal sommergibile hanno rimosso il coagulo e poi sono usciti da una lacrima prima di rigigantirsi ora questo era fantascienza e arriviamo al 1995 in cui è nata ufficialmente la nanomedicina perché è stato approvato il primo farmaco nanostrutturato per la cura del tumore ovarico vi faccio notare per la cura del tumore ovarico perché poi vedrete che in questa mia semplificazione voglio che torniate a casa sapendo quali sono le applicazioni della nanomedicina e che non è una scienza che può risolvere tutti i problemi della salute umana l'applicazione principale è per i tumori allora andiamo avanti e vi faccio vedere questo questa è la scala biologica in confronto con la scala della nanomedicina qui abbiamo il corpo umano dimensione intorno al metri ok scendiamo capelli dimensione di 100 micron poi scendiamo cellule dimensioni di decine di micron poi andiamo giù e abbiamo i batteri i virus qual è? sotto quello sotto questo ah sotto sotto alla parte di qua i batteri non va lo stesso ma era tuo? ah beh no ce l'avevo uno anch'io allora dicevo che i virus intorno ai 100 nanometri ok e poi come vedete qui abbiamo le proteine l'anticorpo è una proteina intorno ai 10 nanometri ok quindi queste sono strutture biologiche qui sotto trovate le nanostrutture che sono strutture ovviamente totalmente sintetiche che hanno dimensione tra uno e qualche centinaio di nanometri il campo quindi applicazione nanomedicina è quello dell'usare strumenti che hanno dimensione nanometrica compreso tra uno e qualche centinaio di nanometri ora anche qua la nanomedicina ha tante applicazioni è nata nel 95 ma sta andando avanti a tutto a tutto corpo e praticamente tutti i settori della nanomedicina hanno applicazioni nano strutturate diagnosi terapia medicina rigenerativa anche qua non riesco a entrare nel dettaglio di tutti vi farò vedere soltanto qualche esempio però vi voglio informare che tutte queste opzioni sono possibili e sono studiate in nanomedicina prima cosa esiste un arsenale di nanostrutture che vengono usate in nanomedicina questo che voi vedete questo disegno vi fa vedere soltanto una punta dell'iceberg perché in realtà i fisici i chimici i biologi gli ingegneri gli esperti scienze materiali sintetizzano veramente una grossissima quantità di particelle qualcuno sostiene anche che siano inutili molte di queste però nella ricerca della struttura migliore vengono fatte tante strutture di cui vedete queste qua che sono le più utilizzate in nanomedicina quindi ci sono a base di lipidi i famosi liposomi che sono stati inventati negli anni 60 particelle lipidiche solide micelle dendrime polistricelle polimeriche che sono fatte sinteticamente particelle a base metallica di oro o magnetiche che vengono usate per diagnostica quindi questa è soltanto una rappresentazione che voglio vedere delle più utilizzate allora perché si usano tutte queste nanoparticelle in medicina allora l'applicazione principale è per il trasporto di farmaci drug delivery questo ha portato una come dire una novità nel campo della farmacologia perché perché le nanoparticelle sono utili per trasportare farmaci cioè possiamo caricare dei farmaci all'interno di queste nanoparticelle e poi mandare queste nanoparticelle come se fossero dei proiettili al bersaglio ora voi potreste dire vabbè ma qual è il vantaggio di intrappolarli all'interno delle particelle invece che usarli non veicolati allora i farmaci vengono protetti all'interno delle particelle il proprio Sessione ci sa meglio di me che un problema che riguarda la terapia con i farmaci è quello che i farmaci vengono continuamente degradati in circolo dal sistema reticondotoriale i livelli terapeutici che potrebbero curare la malattia scendono inevitabilmente inesorabilmente e quindi mantenerli alti vuol dire avere un'efficacia terapeutica maggiore dentro nelle particelle i farmaci sono protetti non vengono aggrediti dagli enzimi che li degradano quindi rimangono più lungo in circolo e quindi possono agire per più tempo quindi questo è già un primo vantaggio possibile il secondo è questo se questo calcolo non l'ho fatto io ma se voi calcolate un farmaco classico dove va a finire quando voi prendete questo farmaco il farmaco va in circolo si distribuisce attraverso il ciclo sistemico va nel parenchima a meno che non sia un farmaco di quelli indirizzati di quelli nuovi per esempio gli anticorpi monoclonali che vanno specificatamente a un tessuto va un po' dappertutto casualmente allora si calcola che una molecola di farmaco su 15.000 somministrate vada diciamo passivamente al suo bersaglio se il farmaco sta in una particella e la nanoparticella arriva al bersaglio farmacologico dentro ci sono migliaia di molecole di farmaco quindi se la particella riesce ad arrivare in modo specifico al bersaglio si porta dietro una grossa quantità di farmaci e ovviamente questo vuol dire che le nanoparticelle possono portare più molecole al bersaglio farmacologico possiamo somministrare una quantità minore di farmaci e abbiamo degli effetti collaterali minori ora potrei dirlo dopo ma faccio ancora questo quest'altra escursus nel quale dico l'ultimo vantaggio che è collegato all'uso di nanoparticelle per il trasporto di farmaci cioè abbiamo come dicevamo prima la possibilità utilizzando l'esperienza dei fisici dei chimici delle scienze immateriali di fare un arsenale di particelle che possiamo decidere noi quindi ingegnerizzare in modo a dargli forme diverse dimensioni diverse possiamo usare il materiale che ci interessa di più e possiamo soprattutto fare in modo che queste particelle compiano delle funzioni che il farmaco non è capace di fare e che noi invece vogliamo che sia capace di fare vi faccio questo esempio questa è una nanoparticella ideale nella quale c'è un po' di tutto ok ma semplificando dentro nella particella ci potete mettere i farmaci sulla superficie ci potete mettere una molecola un ligando che indirizza la particella al tumore e ovviamente se la particella va al tumore si trasporta anche una grossa quantità di farmaci maggiore di quella che potete immaginare arrivi somministrando il farmaco libero oppure ci potete mettere una molecola che permette di indirizzare al cervello questa questa particella col suo farmaco oppure ci potete mettere dei sistemi per effettuare la terapia genica oppure ci potete mettere dei probe per la risonanza magnetica oppure ci potete mettere dei probe per la PET positron emission tomography ora guardate che anche se può sembrare assurdo se uno se lei ci sarebbe capace di farlo visto che è un bravo chimico se uno volesse fare una particella che le ha tutte queste funzionalizzazioni potrebbe anche farlo cioè la nostra conoscenza tecnologica e chimica per fare queste funzionalizzazioni è a un livello che ci permette di fare tutto questo vi devo dire che non avrebbe senso di farlo perché nessuno si sognerebbe di fare una particella che ha dentro un pro per risonanza e anche per la PET o l'uno o l'altro ovviamente però è per dire che le capacità sintetiche della nostra scienza è sufficiente a fare tutte queste cose allora qui il preambolo che volevo fare prima vi dico adesso uno dice ma si ha tutti questi vantaggi perché non mettiamo tutti i farmaci dentro nelle nanoparticelle ok sono protetti hanno una vita più lunga possono essere indirizzati dove vogliono allora la prima cosa è questa che l'aspirazione più sono due la più come dire venale è questa i costi di un farmaco intrappolato in una particella sono altissimi rispetto al farmaco da solo quindi se voi un farmaco lo pagate un euro al grammo dentro di una particella diventano 100 euro al grammo quindi i costi sono alti il nostro sistema sanitario non potrebbe sostenerli secondo molti direi la maggior parte dei farmaci funzionano bene anche senza il bisogno di una nanoparticella che li porta quindi nessuno si sognerebbe di dare un chemioterapico per la cura dei tumori subito portato da una nanoparticella i chemioterapici funzionano bene tanta gente fortunatamente riesce a curare alcuni tipi di tumore la sopravvivenza è aumentata negli ultimi anni quindi vuol dire che i farmaci funzionano poi ci sono dei tumori che non rispondono o delle metastasi allora in seconda linea è possibile utilizzare delle nanoparticelle con dentro un chemioterapico perché in quel caso allora anche il sistema sanitario è come dire disponibile a dare questa possibilità allora adesso veniamo al dunque siccome si potrebbe far tutto e c'è gente che sta cercando in tutti i campi allora vi devo dire che l'applicazione più studiata per la nanomedicina è la terapia e la diagnosi dei tumori ma il motivo per cui ci sono vi farò vedere un esempio ci sono dei prodotti a base di nanoparticelle per la terapia e la diagnosi dei tumori già in clinica si usano tutti questi composti non li trovate ovviamente in farmacia o all'esse lunga si usano in clinica devono essere preparati ad hoc vengono dati direttamente al clinico per l'uso sull'uomo però sono in commercio la cura dei tumori con la nanomedicina ha avuto più sviluppi avete visto che il primo farmaco nanostrutturato Doxil è del 1995 ed era per la cura del tumore ovarico perché ci sono delle situazioni favorevoli anzi c'è una situazione favorevole che ha lanciato la cura dei tumori con la nanomedicina e poi ci sono state delle applicazioni anche abbastanza come dire fantasiose ma funzionanti che le hanno continuato allora il motivo principale è questo la permeabilità dei sto parlando scusate sto parlando di tumori solidi cioè una massa tumorale vi faccio una anche qui una lezione in tre secondi che è questa una massa tumorale comincia da un numero limitato di cellule che crescono e aumentano di massa quando aumentano troppo le cellule che stanno al centro non riescono più a recuperare dal circo lematico il loro fabbisogno energetico glucosio e ossigeno allora cosa fanno cominciano a emettere dei fattori di crescita tra cui il primo è il VEGF vascular endothelial growth factor cioè un fattore di crescita che fa crescere all'interno della massa tumorale dei capillari in modo che il tumore si crea il suo proprio circolo sanguigno e il sangue riesce ad entrare all'interno e a portare del materiale ora questa strategia permette al tumore di crescere sempre di più ha un difetto che è quello la breccia attraverso cui può entrare all'anno medicina cioè questi capillari lo vedete nella parte sotto questi capillari questo è il capillare dove passa il sangue sopra abbiamo un tessuto sano in un tessuto sano le pareti dei capillari vascolari sono compatte non si riesce a passare nel tumore il tumore si fa la sua rete vascolare però la sua rete vascolare ha dei difetti ha questi buchi queste fenestrazioni attraverso queste fenestrazioni le nanoparticelle trovano una breccia come la breccia di portapia attraverso cui riescono ad entrare quindi è una struttura insita nei tumori solidi che ha un difetto cioè buchi dentro nelle pareti e poi c'è un altro difetto del tumore che viene sfruttato cioè i tessuti sani oltre che il circo lematico esiste un circo che voi sapete che si chiama linfatico il circo linfatico nei tessuti normali lo vedete questo qua prende il materiale che per caso esce dal sangue e va qui dentro e lo aspira come se fosse un aspiratore e lo porta via il tessuto linfatico nel tumore nella massa tumorale non c'è quindi le nanoparticelle possono uscire dalle brecce ma non se ne possono andare e rimango lì a lavorare con il loro farmaco per farvi vedere una un qualcosa di di pratico vi faccio vedere questo questo esempio banalissimo il cui si vede che si iniettano e guardate che la maggior parte dei nanoparticelli si iniettano endovena o si fa un'infusione la flebo famosa le particelle vanno in circolo questo è un globulo rosso quello che vedete ok si muovono e vanno in giro e quando trovano a un certo punto riescono a trovare quando arrivano a livello tumorale quei famosi capillari fenestrati coi buchi e allora riescono ad andare fuori dal circo lematico si infilano in questi buchi vanno dentro nel tessuto tumorale e qui escono portandosi dietro il chemioterapico che viene concentrato a livello del tumore quindi si accumulano e poi lì hanno una grossa concentrazione di farmaco che non è ottenibile col farmaco libero ok e quindi hanno questa possibilità di avere un'azione terapeutica molto maggiore allora questo è il motivo principale per cui è partita tutta la studio della nanomedicina sui tumori questo effetto che viene chiamato permeabilità e ritenzione aumentata si chiama APR enhanced permeability and retention effect si chiama però poi da questo sono nate altre opzioni per esempio si è scoperto e che ovviamente con un po' di fantasia che le particelle possono anche eliminare cellulite morali senza utilizzare farmaci col calore questa è una frase di Ippocrate che l'aveva capito un po' di tempo prima di noi che dice quello che le medicine non sono in grado di curare lo cura il bisturi quello che il bisturi non cura lo cura il fuoco quello che non cura il fuoco è incurabile ok quindi c'è un modo per eliminare i tumori che si chiama ablazione termica dei tumori ed è ci sono diversi tipi ma utilizza soprattutto o nanoparticelle di oro o nanoparticelle di ossidi di ferro queste due tipi di particelle hanno vi faccio vedere questo perché vi dà un'idea anche di cosa riescono a fare gli esperti di scienze materiali queste sono tutte nanoparticelle d'oro che come vedete possono essere nanobastoncini nanostelle nanocubi nanosfere nanoshell ok ora queste nanoparticelle d'oro alcune di queste soprattutto queste che si chiamano nanobastoncini nanorod hanno delle caratteristiche che li rendono utilizzabili per l'ablazione termica dei tumori lo stesso vale per le nanoparticelle di ferro poi torno su questa perché è una caratteristica allora le nanoparticelle vengono iniettate e arrivano al tumore sfruttando quell'effetto EPR che vi ho detto quindi extravasano da queste brecce dei capillari la zona viene irradiata con un luce laser infrarossa nel vicino infrarosso che riesce ad andare poco ma riesce ad andare anche sotto la pelle oppure se si usano particelle di ferro di ossidi di ferro si usa un campo magnetico alternato quello che si usa per fare la risonanza magnetica viene fatto oscillare sui due poli a una frequenza molto elevata le particelle ruotano allineandosi al polo e con questo movimento si riscaldano mentre invece le particelle d'oro assorbono la luce nel vicino infrarosso e aumentano di temperatura quindi facendo questo trattamento si può provocare qui le particelle sono uscite che siano d'oro che siano di ferro utilizzando il campo magnetico o il NIR infrarosso vicino queste particelle scaldano e riescono a portare la temperatura del tumore a valori elevati che sono incompatibili anche con la vita del tumore quindi prima di realizzazione queste sono una scala che vi fa vedere la temperatura che si può raggiungere irradiando in un animale da esperimento che ha un tumore questo per un minuto si raggiunge una temperatura che sarà secondo me intorno ai 50 gradi se viene fatto per 5 minuti arriva il centro a 60 gradi a 60 gradi la cellula tumorale muore ma intorno dove non ci sono nanoparticelle dove c'è il tessuto sano la temperatura resta normale quindi c'è una selezione di temperatura aumentata che porta la temperatura delle cellule tumorali che hanno dentro le nanoparticelle a 60 gradi le cellule intorno del tessuto sano restano a 37 e non risentono di questa possibilità allora volevo dirvi che questo è l'applicazione più importante le nanomedicine sono qualcosa di reale cioè si usano in clinica qua trovate soltanto un paio di tabelle perché non voglio farvi l'elenco telefonico ma trovate qui sotto le indicazioni qui avete malattie di Crohn artrite deumatoide tumore della prostata degenerazione maculare poi neutropenia vado avanti epatite C malattie croniche del rene acromegalia gotta emofilia sclerosi multipla sarcoma di caposi meningite linfomatose insomma come vedete tante malattie hanno un farmaco non strutturato approvato dall'FDA Food and Drug Administration o dalla MEA cioè quello il nostro lema il nostro europeo e vengono usate nella pratica clinica ora questa è la lezione diciamo la parte che volevo dirvi più importante che riguarda la nanomedicina tutto il resto è importantissimo ma come vi dicevo io faccio 48 ore di lezione e avrei potuto andare avanti sulla nanomedicina però quando ho visto che il professor Seneci parlava di malattie neurodegenerative ho detto vabbè a questo punto faccio vedere quello che facciamo noi che è l'anomedicina sulle malattie neurodegenerative o almeno più che malattie neurodegenerative sulle malattie del sistema nervoso centrale perché in questo momento ci stiamo occupando di glioblastoma però quello che vi faccio vedere è qualcosa di da un certo punto di vista e parlo per me di molto mi ha dato molta soddisfazione d'altra parte e questa cosa l'ha già introdotta il professore prima lascia un po' di amaro in bocca e capirete perché vi faccio vedere quello che noi facciamo che abbiamo fatto sulla malattia di Alzheimer sulla malattia di Alzheimer io ho avuto la fortuna di coordinare un progetto europeo da 14 milioni di euro che è durato 5 anni 19 partner sparsi per tutta l'Europa che mi ha dato anche la comunità europea molta soddisfazione perché abbiamo decine e decine di pubblicazioni due brevetti internazionali granted in tutto il mondo che sono costati ve lo posso dire dopo se vi interessa un patrimonio ok e costano ancora il loro mantenimento abbiamo registrato il nostro prodotto una nanomedicina con un trademark e diciamo ah beh abbiamo fondato insieme a Bicocca una spin off questa spin off con questi materiali con questi brevetti è stata finanziata qualche mese fa per capire poi vi dico cosa però il progetto che noi abbiamo seguito era un progetto sull'Alzheimer e ringrazio Seneci perché prima ha fatto tutta questa parte introduttiva quindi mi mi facilita anche la spiegazione di questo allora prima cosa al di là del fatto che neurodegenerativa tante persone è una malattia ovviamente come voi sapete che è praticamente un'epidemia ok epidemica nel senso che prende milioni di persone ma per semplificare le cose perché ripeto questo è un progetto che ha durato cinque anni più gli strascichi eccetera eccetera per semplificare le cose uso dei cartoon molto banali questo è un emisfero di un cervello questo è un emisfero di cervello con Alzheimer dove non c'è solo questo Seneci diceva che lui si occupa di Tau ma c'è l'accumulo di placchi amiloidi di beta amiloide di una proteina che si accumula a livello del cervello non ci sono cure per l'Alzheimer lo sapete ok lo sanno tutti dal 2003 non c'è più un farmaco nuovo e c'è un problema che come dire rende difficile l'approccio terapeutico di tutte le malattie del cervello cioè c'è la barriera metoncefalica la barriera metoncefalica non è che sta lì per caso l'ha messa la natura perché il cervello è la struttura che ha le cellule più delicate del nostro organismo e lo isola completamente lascia passare soltanto il glucosio per mantenere e tanto per mantenere vivo il cervello ma poi per il resto cerca di bloccare tutto quello che passa attraverso la barriera metoncefalica cioè dai capillari cerebrai che va verso i neuroni è regolato da dei trasportatori che lasciano passare solo quello che vogliono loro però i farmaci non passano allora bisogna trovare una come dire una strategia e questo la nanomedicina aiuta e ha aiutato perché abbiamo realizzato delle particelle questo è il marchio registrato che abbiamo dato noi che è un acronimo tra amiloide liposomi quindi ambiposoms ok che sono in grado di superare la barriera metoncefalica perché li abbiamo funzionalizzati con un ligando che abbiamo sviluppato noi che riconosce sulla superficie della vascolatura cerebrale un recettore a cui si lega quindi sono particelle che si fermano quando passano vicino al cervello queste particelle sono in grado di distruggere queste placche questi aggregati qua vedete una microscopia elettronica di un aggregato di questo betamiloide quello che forma le placche e qua vedete a destra quello che succede quando noi mettiamo a contatto questi amiposomi con questi aggregati si disfano quindi le nostre particelle sono in grado in laboratorio di disfare questi aggregati sono in grado di legarsi al recettore che sta sul cervello allora quello che noi abbiamo poi sperimentato in in vivo è questo cioè le particelle non sull'uomo come vedrete ma sull'animale queste particelle vengono trasportate nel sangue e siccome hanno sulla loro superficie questa funzionalizzazione che va a legarsi a un recettore del del cervello si legano a questo recettore e questo permette a loro di attraversare la barriera ematoencefalica ora questo è il fatto di attraversare la barriera ematoencefalica l'abbiamo prima dimostrato in vitro con dei modelli ma poi anche in vivo questo che vedete è una sezione di ipocampo l'ipocampo guardate che è una zona del cervello che è quella che è più colpita dalla malattia di Alzheimer cioè lì i neuroni muoiono per primi quando uno ha la malattia di Alzheimer e questa è una sezione di ipocampo di un roditore al quale è stato iniettato questi nostri amiposomi e questi sono varie colorazioni che vi fanno vedere le cellule i nuclei delle cellule ma quello che potete vedere sono queste macchie arancioni che vedete nell'ultimo riquadro a destra e queste macchie arancioni sono i nostri amiposomi cioè abbiamo prima dimostrato che questi amiposomi iniettati a un animale arrivano al cervello interi ok che è la prima cosa a dire perché finché funzioni in brevetta va tutto bene ma poi vi voglio vedere quando siete sull'animale e questa è un'altra cosa che ha fatto notare anche il mio collega prima una cosa è vederlo sull'animale e poi e poi riprodurlo sull'uomo che non è sempre quello che succede nell'animale e poi viene riprodotto sull'uomo però andiamo con molta speranza e abbiamo utilizzato dei modelli transgenici di Alzheimer sono usatissimi in tutto il mondo da sempre questi modelli transgenici sviluppano sia le placche che la perdita di memoria che sono le due come dire caratteristiche principali della materia di Alzheimer anche se ricordate che le placche sono qualcosa che serve a diagnosticare sono collegate al fatto che c'è una neurodegenerazione perché la beta induce anche neurodegenerazione le placche magari non sono proprio i loro responsabili però questo è un fatto ma la cosa diciamo brutta che accompagna l'Alzheimer era la perdita di memoria come voi sapete perché si perde tutto il contatto con la realtà con il riconoscimento dei parenti degli amici eccetera e questo è una cosa più devastante che non il fatto di avere delle placche quindi questi hanno la perdita di memoria e le placche abbiamo fatto dei tripi di trattamento diversi abbiamo trattato dei topi già Alzheimer che avevano già perso la memoria o che erano già pieni di placche nel cervello oppure abbiamo trattato dei topi giovani che non avevano ancora niente stavano benissimo avevano la memoria per un lungo tempo come vedete sette mesi una volta alla settimana e li abbiamo seguiti in parallelo ai loro fratelli che non erano trattati per capire il nostro trattamento riesce a prevenire la malattia allora le risposte sono tutte o due sì qua vedete uno dei lavori che sono stati pubblicati tanti sono state le stesse cose tanto per tranquillizzare anche noi stessi sono state riprodotte a Milano a Madrid e a Turku Finlandia quindi ovviamente questo ci conforta nel senso che uno può sempre sospettare che ci sia la mano che mette il miglioramento che uno vuole ma siccome sono state riprodotte in tre laboratori diversi da tre gruppi diversi di ricerca in tre nazioni diverse ci fidiamo del fatto che questo è quello che avviene realmente allora qua vedete allora prima cosa questa PET commissione di positroni il problemo che abbiamo usato è lo stesso che si usa per l'uomo anche nell'uomo si usa questo prodotto che si chiama PIB che serve a vedere le placche con la PET nel cervello umano le placche le vedete questo è un cervello visto alla PET il cervello di questi topi transgenici dove vedete che queste cose verdi sono le placche di betamiloide dopo il trattamento come vedete le placche sono stanno scomparendo il toposano non ne ha per niente ma come vedete il trattamento è in grado di togliere una grossissima quantità di queste placche di abeta quindi di rimuovere l'abeta dal cervello e poi c'è l'altro punto che è quello l'effetto sulla memoria perché la cosa importante è dico vabbè tolgo le placche ma vorrei sapere se poi ho anche qualche effetto sulla memoria che è una cosa che forse mi interessa anche di più di poter non perdere la memoria che non di avere la placca allora per far questo ci sono tanti test quello che abbiamo usato più volte anche questo in diversi laboratori in Europa è questo che si chiama NOR novel object recognition funziona in questo modo un topo viene messo i topi vengono messi in questa scatola 10 minuti al giorno dove ci sono due oggetti identici allora il concetto è questo se il topo è sano e ragiona dopo due o tre giorni riconosce gli oggetti sa memoria di cosa si tratta allora se questo topo viene messo un giorno in una scatola dove uno dei due oggetti vecchio è sostituito con uno nuovo per esempio questo qua colorato allora il topo sano capisce che questo oggetto è nuovo e siccome il loro modo per conoscere il mondo è quello di andare a annusare gli oggetti passerà più tempo ad annusare questo oggetto rispetto a quello vecchio se il topo è demente Alzheimer cosa farà? non capirà che questo è un oggetto nuovo perderà lo stesso tempo ad annusare l'oggetto vecchio e l'oggetto nuovo quindi quello che si fa è metterli in questa arena per qualche giorno dove ci sono due oggetti identici a un certo punto uno dei due oggetti viene cambiato viene messo lì dentro e si va a vedere per un tempo abbastanza lungo con una telecamera che misura il numero di passaggi si va a vedere quanto tempo perde sui due oggetti allora quello che noi abbiamo visto e pubblicato è questo allora qua vedete a sinistra topo Alzheimer ok questo è un pezzettino non è un'ora va prima il trattamento va sull'oggetto nuovo sull'oggetto vecchio poi va ancora sull'oggetto vecchio ancora sull'oggetto nuovo praticamente passa metà del suo tempo sul nuovo e sul vecchio perché non capisce quello nuovo è qualcosa di diverso da prima allora lo stesso topo lo trattiamo adesso arriva va sull'oggetto nuovo capisce che c'è qualcosa che è di diverso ritorna all'oggetto nuovo a riesplorarlo gira ancora annusa l'oggetto nuovo va verso quello vecchio ma se ne va via perché ha capito che è qualcosa che conosce già quindi questo a parte che poi è statisticamente mostrato da delle grafici che non vi mostro però ci ha portato a a questa conclusione che il nostro trattamento è in grado di ripristinare la memoria che è una cosa importantissima impedire la perdita di memoria se si comincia nel soggetto giovane quindi potrebbe prevenire l'Alzheimer e funzionerebbe anche sul situazione severa dell'Alzheimer cioè già conclamata ora qui vengono le dolenti note noi abbiamo fondato questa società tutti contenti perché avevamo questi brevetti questi prodotti meravigliosi e ci siamo rimasti veramente scornati perché noi abbiamo fatto la nostra conclusione del nostro progetto era il 2015 abbiamo fatto la spin off di Bicocca nel 2015 e nel 2015 ci siamo messi a cercare puntando subito sulle Big Pharma ovviamente perché abbiamo un prodotto che cura l'Alzheimer voi che non allora ci hanno detto tutti di no perché come è successo che da 10 anni dal 2003 non c'è un prodotto che entra in commercio negli ultimi 4 anni direi che l'80-90% di tutti i trial clinici che sono arrivati alla fase 3 sono falliti e sono stati interrotti ci siamo sentiti da dire da tutti tutti abbiamo già speso troppi soldi e buttato via troppi soldi per curare l'Alzheimer i nostri investitori hanno bisogno di un ritorno economico vogliono guadagnare quindi puntiamo su altre malattie per l'Alzheimer adesso lasciamo perdere l'abbiamo già dato abbastanza senza avere un ritorno economico e quindi la situazione è questa le industrie farmaceutiche sono restie a investire altri soldi perché hanno già spesi tanti dice ma è come comprare le azioni compro le azioni cosa? vedo che crollano le compro delle altre non è che insisto a comprare le stesse quella dei Monti Paschi di Siena per dire non è che vado a comprarle tutti i giorni quando so che le cose possono andare male allora su questo però c'è uno spiraglio perché per fortuna vi ho detto prima che la nostra spin off è stata finanziata tre mesi fa tre mesi fa quindi questa è la cosa positiva però ecco però non è stata finanziata per l'Alzheimer come ha fatto notare il collega prima ci sono tutta una serie di malattie che sono comprensate che l'Alzheimer che sono basate su un misfolding delle proteine le proteine aggregano nel cervello e la beta miloide però ci sono anche quelle periferiche allora noi abbiamo siamo avuti un finanziamento per studiare le amiloidosi periferiche non per quelle centrali del cervello quindi stiamo facendo questo diciamo passaggio con la nostra spin off per andare a curare le amiloidosi sistemiche quindi guardate che non hanno ovviamente la stessa incidenza dell'Alzheimer però sono malattie diffuse di cui per molti l'unica cura è il trappianto d'organo o il trappianto di rene o il trappianto di fegato quindi si tratta di malattie comunque gravi non sono malattie da niente sono malattie molto più rare dell'Alzheimer quindi tutto sommato dicevo le cose sono ancora andate meno peggio di quello che pensavamo all'inizio quando ci sentivamo dire di no da tutti i grossi come dire nomi che riguardavano le malattie neurodegenerative ora questo è la storia e questo è quello che c'era scritto nella locandina perché ho scritto un libro non ve lo sto raccomandando vi sto dicendo che ho scritto un libro divulgativo sull'anomedicina nella quale c'è questa frase presa dal libro dagli editori che dice che questa signora a 110 anni non è una non è una cosa così fantascientifica a 110 anni io conosco un po' di persone che sono oltre i 100 poi non so ma tanta gente arriva a oltre i 100 anni adesso nel 2083 penso di poter prevedere che si arriverà comodamente ai 110 anni quindi non sarà un'età così elevata quindi stiamo parlando di 2083 quanti anni mancano 60? ma il potere sarebbe 123 e vabbè 123 comunque si arriverà a questa età allora si dice che questa signora cade inciampa si rompe il femore ma non sta neanche a chiamare l'ambulanza perché sta prendendo a scopo preventivo già da un po' di anni delle nanoparticelle magnetiche che vanno a mettersi nell'osso e che quando l'osso si rompe si fanno risaldare i due monconi della frattura ora guardate che questa quando l'ho scritto questa cosa mi dicevo che bisogna fare un po' di scena e fare capire che queste cose ma poi pensandoci bene io credo che questa applicazione si potrà fare nel senso ci mancano 60 anni di più ma se voi fate conto che la no medicina è partita e la scienza è partita da delle cose insignificanti e nel giro di 20 anni la no medicina ha fatto dei passi da giganti ma non solo la medicina chi è che si sognava di curare un tumore cent'anni fa adesso con buona pace di tanta gente che non riesce a sopravvivere ma guardate che la maggior parte dei tumori si curano nel senso che si rendono malattie croniche cioè non è che uno guarisce dal tumore in questo momento però se se lo porta dietro per un po' di anni arriva a sopravvivere l'importante è la qualità della vita arriva a sopravvivere per tempi lunghi quindi i passi da gigante la medicina li ha fatti la scienza anche la chimica pure la fisica pure eccetera e io credo che una cosa del genere tra forse anche meno di 60 anni sarà possibile non è veramente fantascienza grazie bene grazie davvero anche per le promesse e apriamo il dibattito le domande che sicuramente ci saranno sì grazie sono suave buonasera glielo passo subito un momento volevo chiedere in realtà entrambi però soprattutto non ricordo il suo nome però soprattutto lei ha parlato di applicazioni delle nanomedicine alla sclerosi multipla ha citato lei proprio all'inizio della sua relazione che è uno dei ah sì sì non ho parlato di lei no sì mi scusi parlava lei ha citato le possibili applicazioni ad altre malattie ha citato anche la sclerosi multipla mi chiedevo come funzionano in quel caso se le nanomulina credo che sia un farmaco che ha un'azione su allora quello della sclerosi multipla è un è un farmaco che va a incidere sull'apparato immunitario quindi limita la produzione di auto anticorpi quindi ha ha quell'azione lì nel senso che siccome la sclerosi multipla una delle opzioni è quella che è una malattia autoimmune questo ha un'azione sul apparato immunitario riducendo la produzione di auto anticorpi quindi un immunomodulatore piuttosto che è un immunomodulatore cioè esattamente è un immunomodulatore però nano strutturato e invece relativamente alla relazione precedente quando voi create il modello in questo caso della sclerosi laterale ametrofica nei topi lo inducete la mutazione genetica così com'è come nella realtà umana o è un equivalente diciamo rispondo prima faccio un piccolo commento legato alla domanda precedente non avendo la stessa esperienza del collega ovviamente però avendo visto alcune cose essendo interessato alle varie tipi di sclerosi una delle cose a cui si sta anche pensando proprio perché la difficoltà di penetrare la barriera esiste il collega vi ha fatto vedere la maniera di fregare i tumori da un certo punto di vista più difficile varlo con la barriera ematoencefalica che è molto più difficilmente penetrabile però si può riuscire in qualche modo a far avvicinare dei nano oggetti a questa barriera quindi arrivarci molto in vicinanza stando fuori e indurre una disgregazione delle nanoparticelle liberare quindi lì immediatamente fuori le molecole e fare in modo che ci sia un pochino più di penetrazione quindi un sacco di approcci di questo tipo venendo invece al modello la risposta è semplice perché il modello è autentico quindi la proteina è quella umana mutata quindi non è un equivalente è assolutamente quello il modello quindi uno può andare a studiare all'interno ovviamente del cervello del topino in questo caso dei meccanismi di aggregazione che biochimicamente sono gli stessi perché è la stessa proteina poi ovviamente avvengono all'interno di un organismo che è diverso perché il topo il metabolismo è diverso però è un modello sufficientemente autentico mi faccio finire commentando con piacere una delle frasi che spesso certi colleghi non dicono ma il collega ha detto che tra il modello animale e l'uomo di differenza ce n'è tanta soprattutto nel campo della neurodegenerazione ci sono centinaia se non migliaia di studi che sono stati fatti in cui l'end point preclinico che ci si era prefissi per esempio l'esempio tipico è la disgregazione delle placche di ammiloide viene ottenuto ma purtroppo la demenza non viene curata quando si va nell'uomo perché parlando dell'Alzheimer se uno guarda il fenotipo nell'uomo ci sono tante cose che succedono l'amiloide è la più evidente io sono un taoista i battisti credono nell'amiloide io credo in tao però il punto è che non c'è una causale identificata e sicura lei potrebbe essere in grado con molte molecole di diminuire la precipitazione dell'amiloide ma quelle persone con quei farmaci che siano betasecretasi che siano altre cose restano dementi quindi evidentemente c'è bisogno di un qualcosa d'altro è qui che è la grossa difficoltà e non sempre quello che si modella nel topo nell'uomo ha lo stesso effetto è una questione un po' sull'aspetto causale però vediamolo un po' dal punto di vista della biodiversità faccio un esempio è evidente che è proprietà intrinseca di alcune proteine quelle di assumere diversi stati folded saranno quasi isoenergetici e dipenderà quindi dalla sequenza di quella particolare proteina dal contesto in cui si trova però il fatto per esempio che non tutti gli viene l'Alzheimer allora la prima aspetto è c'è qualche differenza tra quelli che non gli arriva l'Alzheimer a quelli prima fra il secondo è proteine del tipo che per esempio nel sistema nervoso centrale vanno incontro aggregato in altri organi la stessa non produce eppure anche se quegli altri organi non sono soggetti a replicazione cellulare ma se poi io guardo ancora più in grande esistono animali a sangue caldo che vivono un sacco di anni eccetera che non vanno incontro a questo addirittura l'esempio del teraleosio per esempio è un caso tipico le resurrection plants quelle sono piante che le mette nel cassetto per un anno secche 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 bastano 20 ore di umidità diventano verdi causa teraleosio ma lo stesso una conifera con le foglie sempre verdi vive più di 200 anni e non li viene quindi voglio dire un approccio a cercare la causa può essere anche quello interessante guardando alla biodiversità che c'è quanti giorni ho per rispondere a questa domanda perché me ne serve qualcuno per rispondere esaurientemente poi magari anche il collega no al di là delle battute alcuni punti senza pretendere di rispondere perché sono risposte certo prima di tutto parlando dal punto di vista di nuovo del chimico e del cosiddetto rational design di farmaci uno dei punti importanti che hai citato molto importanti è proprio quello sulle proteine disordinate c'è una classe di proteine sempre più importante che sono le IDP intrinsically disordered proteins e molte tra le proteine che sono patologicamente collegate a queste malattie sono IDP ma se ci pensate c'è una logica perché devono assumere conformazioni molto varie e funzionare in maniera molto diversa quindi è chiaro che non possono essere molto strutturate altrimenti non potrebbero fare questo quindi da un certo punto di vista ci colleghiamo al solito discorso quello che secondo me è il solito discorso la vera malattia ed è una malattia non è un end point è l'invecchiamento ed è il come si dice non mi viene la parola in italiano ed è la degradazione di processi fisiologici corretti a livello di certe proteine che per noi disegnatori di farmaci come medicinal chemist rendono il sistema più difficile perché io posso facilmente cristallizzare e ottenere informazioni strutturali molto valide di proteine organizzate per cui molecole specifiche selettive esistono che sono diventate farmaci per un IDP come la mia amata tau che è una delle più IDP che esistono non si riesce ad avere elementi strutturali tali da capire bene come influenzare certe conformazioni proprio perché è estremamente disordinata e quindi si fa molta fatica detto quello come dicevo molte cose in comune di queste proteine IDP ci sono è verissimo quello che tu dicevi di nuovo da taoista faccio un'osservazione è vero che l'amiloide è collegato con l'Alzheimer e con molte altre malattie ma se noi potessimo cosa che non possiamo perché è post-morte in questo tipo di analisi prendere il cervello di persone di 90 anni fare un'autopsia andare a vedere presenza o assenza di amiloide la incidenza di presenza di amiloide e patologia è intorno al 30% il che vuol dire la cattiva notizia è che un terzo di quelle persone sono morte di Alzheimer la buona notizia è che due terzi di queste persone hanno l'amiloide ma non sono neurodegenerate quindi sicuramente è un fattore che contribuisce ma non è il solo mi permetto di dire a tutt'oggi le tauopatie che sono 30 e rotti la pertinenza purtroppo è il 100% chi comincia a avere i neuroni pieni di tangos eventualmente neurodigenera in maniera diversa sono 30 neurodegenerative diseases diversi l'Alzheimer è il più grosso ma ce ne sono tante altre quindi è molto complicato è difficile dare posso aggiungere qualcosa comunque è vero cioè è vero tutto ma una cosa che purtroppo non si sa è che l'approccio che si fa sull'Alzheimer è a un target che può essere la tau la beta eccetera però in realtà c'è tanta gente perché l'eziopatogenesi cioè perché viene la malattia e perché si produce questa beta eccetera non lo sa nessuno ma guarda che c'è tanta tanti ricercatori al mondo che stanno studiando i meccanismi molecolari alla base della malattia che non sono scoperti è chiaro che senza questa informazione uno non riesce ad aggredire diciamo alla base la malattia a un intervento che va sulla tau se va su quello sulla produzione di abeta ma la vera la verità non si sa ancora ci sono tante e lo sapete anche voi tante teorie che hanno dimostrazioni e pro e contra su queste teorie una una è la neuroinfiammazione l'infiammazione è la causa dell'Alzheimer un'altra è ci sono tante correlazioni mancanza di acido folico ok l'acido folico è la vitamina che trovate nelle foglie foglie larghe a verdi se andate a guardare gli studi epidemiologici sulla PubMed sulla Medline vi trovate che l'abbiamo anche noi abbiamo fatto una pubblicazione che se voi analizzate il sangue degli Alzheimer uomini trovate dei livelli di acido folico circolanti bassissimi l'acido folico serve per la riparazione del DNA quindi quello che si dice è siccome non c'è acido folico per riparare il DNA danneggiato del cervello che ha delle cellule che non si possono rinnovare si va a neurodegenerazione sarà vero però se questa cosa radicali liberi specie reattive dell'ossigeno c'è l'ipotesi che dice che è causata da delle specie reattive dell'ossigeno che sono quelle che per esempio respiriamo anche col particolato atmosferico e poi c'è un'altra scusate ma avete sentito anche voi che questa è una dimostrazione di cui nessuno sa la spiegazione che il livello di istruzione e di esercizio del cervello è uno dei fattori che proteggono dalla malattia perché? però è vero cioè la gente più istruita ha un'incidenza delle armi più bassa tiene il cervello e quindi ma sì però perché tenendo il cervello in esercizio ecco purtroppo tutte queste cose dico purtroppo perché mia moglie quando dico queste cose dico vorrei essere nato nel 2300 ok lei mi dice io vorrei essere nata nel 1700 perché vorrei vedere come si evolve la scienza sarei curioso di vedere perché vorrei la risposta a queste cose che purtroppo servirebbero anche per curare le malattie ci arriveremo forse a meno che non cambi il clima sì appunto anche all'origine io volevo toccare questo punto della causa perché tutto sommato la Merck e il GSK mi sembra non sospeso ufficialmente le ricerche sull'Alzheimer l'anno scorso e non credo che sia solo materia di di quattrini di finanziamenti necessari ma il problema è che tutte le ricerche che sono state che sono in corso vanno a valle di quella che è la causa della malattia quindi sono dei trattamenti che anche se per dire io sapevo che l'FDE è disposta a raccomandare qualunque farmaco che migliori per tre mesi la qualità della vita di un paziente perché sono dei costi comunque pazzeschi per la società quindi il il discorso è il limite di tutte le ricerche chimiche di questo genere il discorso della mancanza della causa andare sugli effetti e la cosa che mi sembra più interessante in questa luce è il risultato avuto da 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 Masserini perché il fatto che si disgreghi la placca miloide è un fatto ma ritorna alla memoria quella è la cosa più importante e allora può essere dovuto al fatto che siamo sul topo però mi sembra che questa dicotomia sia una cosa estremamente interessante perché potrebbe essere che quel farmacoligie agisce con un meccanismo diverso ed agisce più all'origine di quella che non è la placca della miloide so se hai considerato questo aspetto però mi sembra che varebbe la pena di approfondirlo devo dare una risposta semplicistica nel senso che noi abbiamo avuto l'effetto è chiaro che se uno non sa la causa va sull'effetto il nostro prodotto funziona su diverse cose di cui io non ho nominato la neuroinfiammazione riducerà anche la neuroinfiammazione però se dovessimo andare a puntare su quello prima bisogna dimostrare che la neuroinfiammazione è la causa dell'Alzheimer e questo richiede un po' di anni ma soprattutto tanti soldi per investigarlo e poi si può fare questa ricerca ma io verificherei se effettivamente la cosa è la memoria cioè a chi a chi su un uomo sull'uomo ascolti ma allora scusate le devo fare una cosa che potrebbe dire anche lui non ti porto via la scena ma allora il nostro prodotto per poterlo portare in fase clinica 1 ci vogliono 3 milioni di euro ok perché deve essere provato o sul cane o sulla scimmia non per vedere se cura l'Alzheimer ma per vedere se è tossico alla fase 1 sull'uomo si fa su volontari sani per vedere se è tossico quella è la dose tossica per l'uomo 5 milioni di euro si passa alla fase 2 si fa vedere se toglie la memoria se ritorna la memoria chi è che spende 8 milioni di euro prima di arrivare a testare se ha un effetto sulla memoria dell'uomo in questo momento nessuno posso collegarmi come tu sai eh sì ma questo è un problema come tu sai Stefano io sono stato coinvolto come fondatore di una start up nel campo tau in Germania e ho lavorato per 5 anni abbiamo raccolto giusto per dare 25 milioni di euro in 5 anni e siamo falliti forse non eravamo bravi però prima di fallire abbiamo trovato una molecola che alla Mayo Clinic abbiamo sperimentato per la prima volta in un modello autentico di tauopatia motor neuron per ridurre i costi perché il problema qual è? un topo in cui tu vuoi dimostrare che è un effetto causale che può essere su amiloide o su tau funziona tu devi portarlo fino a quando neurodegenera quindi il topo ci vogliono un annetto di tempo per prepararlo poi trattarlo per 2-3 mesi uno studio di questo tipo motor neuron perché è oggettivamente più facile verificare se funziona o no perché oggettivamente misura il movimento la cognizione quanto ha fatto vedere il collega è molto bello però chiaramente da lì a passare a vedere la cognizione di un neurodegenerato anziano è diverso i test di cui parlava e la sperimentazione clinica richiedono costi molto elevati e quindi poca gente è disposta ad investirci anche perché effetti di un certo tipo in un certo tipo di sperimentazione sono già stati visti io mi auguro che il collega abbia un qualcosa che funziona però cose del genere sono state viste il problema è che non si è verificato tante volte da parte delle Pfizer Merck e così via che quello che si vedeva e che sembrava solido sembrava solido del tipo effetti di disgregazione di placche apro piccola parentesi non è la placca tossica la placca non è tossica il tossico è probabilmente in mezzo tra il monomero e la placca quindi oligomeri solubili che provocano vari tipi di fenomeni quindi non sappiamo bene qual è la specie non riusciamo a osservarla vediamo un effetto finale in un modello che riproduce la malattia ma che è lontanissimo quello che le aziende o i finanziatori non vogliono fare non lo vogliono fare perché hanno paura visto il pregresso è spagare questa sperimentazione che può dirsi efficace e farti guadagnare i soldi solo quando hai finito e quando hai finito tipicamente per un Alzheimer considerando il studio fase 1, 2, 3 necessario è stimato dell'ordine intorno al miliardo di dollari di spesa centinaia di miliardi se anche il miglior risultato che è il ritorno della memoria non può essere no ma è la prima volta che io sento che ritorna la memoria non ho mai visto no 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 comunque chiediamo l'altra cosa volevo chiedere quel scusa Pierforto quel retromero quel retromero che viene stabilizzato dal tuo farmaco diciamo è una stabilizzazione che duratura nel tempo è reversibile perché in tutti i casi una volta terminato il trattamento si riformano le placche per esempio no ma qui andiamo proprio sul problema che era poi e lo dico ti do un minuto di risposta per introdurre una domanda al collega il problema un problema grosso per cui le aziende si rifiutano di fare questi studi non è neanche legato al costo come dici tu giustamente ma è legato a un fenomeno che noi tendiamo a trascurare io personalmente mi occupo di due aree terapeutiche secondo me le più challenging e le più difficili una è l'oncologia e una è la neurodegenerazione che sono entrambe difficilissime perché sono non multifattoriali di più non c'è una cosa sola che succede come nella malattia è manofattoriale ma ce ne sono centinaia quindi capire qual è quella più importante e bloccare solo quella per ottenere il risultato è praticamente quello che ci dice fino ad ora è quasi impossibile ma è qui che l'oncologia e la neurodegenerazione cambiano per cui in oncologia ci sono risultati in neurodegenerazione no perché perché l'oncologia è una malattia acuta quindi il trattamento non dura tutta la vita quindi il trattamento è breve rapido e forte e ci si può permettere dei cocktail delle molecole non specifiche che trattano per poco tempo inibitori di chinasi di vario tipo di chinasi si dà una botta e con vari metodi incluse le nanoparticelle si arriva a un obiettivo con un trattamento acuto tu pensa la diagnostica ormai sta facendo passi da gigante tu a 30-40 anni riesci a capire che quella persona potrebbe contrarre l'Alzheimer quindi devi cominciare a trattarlo e qui comincia il problema perché tu questa persona e torniamo a quello che chiedevi tu la devi trattare per il resto della sua vita non riesci a prevenire la malattia perché per prevenire la malattia dovresti cambiare il genoma e fare in modo che quella proteina non tenda quindi tu devi continuare a trattare devi continuare a trattare con un farmaco che ti blocchi sempre quella situazione e questo è molto difficile ma non impossibile probabilmente mi permetto di dire poi vediamo cosa ne pensi tu il problema è legato a capire fare meglio i fenomeni i meccanismi e riuscire a trovare una maniera che permetta di arrivare a certi risultati e ti faccio la mia domanda che è un discorso legato alla tossicità quello che si diceva per un trattamento cronico nelle piccole molecole che esistono da tanto sono stati fatti molti studi tossicologici una cosa che a mente resterebbe sapere delle nanoparticelle avendo letto un po' di review è da un punto di vista di tossicologia la nanoparticella in quanto tale nelle sue varie forme come si configura e come si lavora soprattutto per applicazioni croniche nello sviluppo di nanoparticelle quindi non legate a cosa portano ma alla nanoparticella in sé e allo smaltimento posso rispondere? parlava della tossicità allora due cose devo dividere per forza di cose le nanoparticelle in generale da quelle che abbiamo fatto noi per l'Alzheimer quelle dell'Alzheimer abbiamo tutta una serie di dati che sono ottenuti sul topo che riguardano il peso riguardano la capacità cognitive sul sano le funzioni epatiche le funzioni renali eccetera eccetera che dicono che non sono d'altra parte tenete presente i liposomi 1965 sono fatti di lecitina se voi andate al supermercato e comprate la lecitina d'uovo quella è il materiale con cui sono fatti i nostri liposomi quindi il materiale naturale le molecole che abbiamo usato sono dei lipidi e dei pezzetti che facciamo noi di un'altra proteina che è già in circolo non abbiamo mai avuto notizie o indicazioni di tossicità ci sono delle particelle che sono state sviluppate per la no medicina e poi sono state abbandonate il più famoso di tutti sono i carbon nanotubes che sono stati sviluppati 15 anni fa e siccome è una delle tendenze che abbiamo discusso fino adesso è quella di dire vado a fare la prova per vedere se funziona allora si sono usati i carbonotubes si sono usati delle altre che si chiamano quantum dots ok per arrivare a delle prove di efficacia e dopo si è scoperto che erano tossiche quindi ci sono in giro tante particelle tossiche e le particelle che si usano in nanomedicina prima di poter essere usate sull'uomo devono essere testate abbondantemente in vitro sulle cellule in cultura se due specie animali una piccola di solito un roditore topo o ratto e poi o sul cane o sulla scimmia ok perché questo dà una indicazione della tollerabilità da parte dell'uomo e poi sui volontari sani che si diceva prima sui quali si dà la prima prova di tollerabilità sull'uomo quindi c'è tutta una come dire una serie di richieste da parte dell'FDA o parte dell'EMA che è l'agenzia del farmaco che chiedono prima di arrivare a trattare il malato delle assicurazioni che da una parte poi il trattamento dell'Alzheimer richiede dei tempi lunghissimi il tumore uno fa una prova di qualche mese e dice no funziona per provare l'Alzheimer magari uno io ho fatto una prova di sette mesi come avete visto un topo vive due anni non siamo autorizzati a fare questa equazione ma un topo vive due anni un trattamento di sette mesi vuol dire un trattamento che dura un terzo della vita che vuol dire che per vedere se funziona magari dovresti trattare un uomo per trent'anni ok chiaro che se uno ha a settant'anni ha una diagnosi di Alzheimer forse è anche disposto a farsi trent'anni di trattamento e arrivare ai cento ok magari sì anche centodieci anche centodieci certo questo è il problema e secondo poi il trattamento su questi diciamo le prove di mancanza di tossicità sono la base per cui poi la FDA dà l'autorizzazione ad entrare in fase clinica e anche queste però sono cose che portano via tempo ci vogliono dieci anni più o meno dalla scoperta di un farmaco all'approvazione se va bene dieci per l'oncologia quindi per approvare il farmaco ci vogliono dieci anni se ci mettiamo in mezzo un trial clinico ce ne sono che stanno sull'Alzheimer che stanno durando già da due o tre anni perché si è tanto tempo ci vogliono quindici anni da quando si parte ad arrivare alla dimostrazione che il farmaco funziona allora io non sono d'accordo che le industrie farmaceutiche siano dei benefattori io sono dell'idea tu sei stato dentro che le industrie farmaceutiche vogliono fare i soldi non vogliono fare il bene dell'umanità tu mi direi che non è vero l'unica cosa che dico senza farla registrare magari è nessuno chiede alle banche di essere benefattori sono enti privati e hanno uno scopo che è quello di essere produttive nel loro settore lo stesso anche un'azienda farmaceutica se non è produttiva smette di fare ricerca licenzia la gente quindi non può vivere senza guadagnare purtroppo al giorno d'oggi è verissimo chiunque abbia lavorato nella neurodigenerazione tranne i discorsi sintomatici ha speso soldi senza avere ritorno il primo che riuscirà a mettere in commercio qualcosa che funziona sull'Alzheimer farà una quantità di soldi spaventosa spaventosa sicuramente però questo primo non c'è ancora un causale non si è visto che mi calza pennello allora come vi ho detto noi abbiamo avuto un finanziamento per le melosi sistemiche e il ragionamento che è stato fatto è stato ma noi nel giro di un anno abbiamo la risposta ok se facciamo sull'Alzheimer ci vuole un po' di anni per avere la risposta allora se voi foste qualcuno che vuole investire dei soldi e guadagnare direste ti do un milione di euro e tu tra sei mesi mi dici se possono rendere oppure ti do un milione di euro e tu tra dieci anni mi dici se possono rendere voi cosa scegliete? non voglio sapere la risposta perché la sappiamo tutti è importante quello che diceva credo qualcuno lì cioè il pubblico dovrebbe investire di più ci dovrebbe essere più iniziative al giorno d'oggi la maggioranza dei soldi investiti almeno questo era qualche anno fa non ho seguito i numeri recentemente investono più soldi in questo le ONG quindi robe tipo la Bill e Melinda Gates Foundation o cose del genere che i governi dei vari paesi secondo me questo è userei degli aggettivi che non voglio usare perché veniamo registrati non è bello ecco non è bello ma è vero che dovrebbe investire in pubblico però io voglio vedere se uno va a Bruxelles dicendo rendito di cittadinanza e ci metto anche ci metto dentro anche qualche 10 miliardi per la cura dell'Alzheimer ok adesso a me è rimasta a me è rimasta la curiosità del costo del brevetto e quanto durano i brevetti poi? 20 anni allora fino ad adesso abbiamo speso 220 mila euro e ogni anno deve essere rinnovato c'è il mantenimento oppure abbiamo avuto l'estensione al Giappone di uno dei due brevetti l'anno scorso che è costato 6 mila euro quindi ci sono sempre delle spese di mantenimento fino ad arrivare ai famosi 20 anni e se la ricerca per ottenere un farmaco valido dura 15 anni poi il tempo in cui questo brevetto vale è ridottissimo a questo punto questo è il punto cardine che nelle aziende io ho lavorato 20 anni in multinazionali la bravura che poi non è bravura può essere chiamata anche in altre maniere più volgari è proprio quella di riuscire a brevettare il più tardi possibile nel senso di riuscire a allungare la vita che vuol dire allungare il periodo in cui si avrà il monopolio perché il brevetto è dal monopolio dal momento in cui si entra sul mercato ma al più presto possibile perché non succeda cosa che sono successe che un mese prima si scopre che qualcun altro aveva depositato un filing aveva fatto il filing di un brevetto su cose simili quindi per certi versi bisognerebbe brevettare il più tardi possibile per altri il primo possibile è chiaro che il brevetto ha dei costi non si se ne accorge subito spesso le accademie e i pubblici non si rendono conto perché all'inizio sono poche migliaia di euro per fare un filing all'italiano piuttosto che all'europeo ma dopo alcuni anni i costi quando si va nelle application nelle fasi nazionali diventano del tipo di svariate decine di migliaia all'anno di euro per mantenerlo vivo e poi si va su ordini più grandi secondo me poi possono esserci opinioni diverse l'università dovrebbe essere la sede in cui l'innovazione viene portata molto avanti ma non credo se non per esempio tipo Harvard University o cose così che un'università abbia le competenze cliniche e il budget per riuscire a pagare tutte le spese per andare dall'idea al farmaco quindi fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 quindi è necessario che ci sia una partnership tra pubblico e privato in certi paesi può essere necessario prima perché ci sono meno fondi in certi altri magari si riesce a tirare dopo un'altra delle cose importanti e poi chiudo non ci crede nessuno chiudo è che ci vuole anche la competenza il downstream quindi verso la clinica molto spesso a livello accademico si trova l'eccellenza scientifica ma meno la capacità e la competenza per quanto riguardano i chimici Stefano per esempio per essere in grado di mettere a punto le vie di sintesi che permetteranno che il progetto che il processo sia adeguato oppure l'esperienza clinica terapeutica di persone e di opinion leader e cose del genere io sono molto contento di vedere non tanto dei fatti delle persone molto anziane che siano interessate a questo fatto che è normale ma che ne venga che ne venga un po' di interesse quando ci sono delle competenze veramente diverse tra i relatori per i chimici secondo me sono un po' necessari voglio dire questo non lo so io invece non sono affatto un esperto di ciò ma riguardando un po' alla medicina cosa succede così mi chiedevo numero uno non è che ci sono tantissime reazioni radicaliche molto importanti che non abbiamo ancora visto che per esempio la chimica non la chimica dei Ross d'accordo quella lì è chiara ma la chimica diciamo la chimica di sintesi radicali ha un enorme ruolo in futuro per capire come cristal fanno queste cellule a funzionare numero due perché la natura dà delle così importanti funzioni a certe cose che in un certo senso non sarebbe neanche ad aspettarsi tipo la non so le omeostasi per esempio le relazioni concertate perché le omeostasi del calcio è affidata a una reazione elettro ciclica perché la visione è affidata appunto a una cicoadizione a una isobilizzazione cistrans per queste cose qui mi lasciano come pensare che la chimica che è la base di tutto perché sono un chimico non siamo d'accordo con la chimica anche noi voi due non cioè non mi sembra mangi proprio del lavoro fondamentale per capire come funziona questa crisi di Fose che forse alla lunga ma neanche così lunga potrebbe portare delle cose interessanti ecco questo volevo dire grazie prima di provare a rispondere devo dare un disclaimer sono in soggezione perché il professore Albini è stato un mio insegnante io ho studiato con lui quindi un po' di soggezione c'è e sono domande validissime io ci rispondo in maniera molto generica ed è ricerca di base ne manca tanto conoscenza di base ne manca tanto per cui noi stiamo cercando di razionalizzare con le conoscenze incomplete che abbiamo quando dico conoscenze incomplete al di là della chimica parlo dei processi fisiologici che riguardano certo tipo di di aree del nostro corpo cervello tumori e altrettanto se non ancora di più processi patologici di nuovo per riuscire a in questa se uno fa degli esperimenti adesso va tanto di moda parla di genomica proteomica a livello di certi tessuti tumorali piuttosto di certe malattie neurodegenerative non trova uno, due, tre geni ovvero sottoespressi ma ne trova svariate centinaia quindi trova svariati pathways metabolici alterati lì davvero si tratta di fare del lavoro di base e finisco dicendo lì la chimica può dare molto aiuto una delle aree che personalmente mi interessano molto è quella della sintesi di probes che permettano di visualizzare meglio all'interno di cellule e all'interno di processi come e dove dei potenziali farmaci si legano interferiscono modificano il funzionamento del target molecolare di tutto io non so rispondere a questa domanda del professor Albini la mia risposta è quella di prima mi piacerebbe essere nato nel 2300 per sapere di più funziona la mia domanda è più specificatamente per Massimo riguarda un farmaco può essere appunto tossico in giro ma può essere quello che si vuole per un tumore allora la nanoparticella qual è la prospettiva di avere la nanoparticella che lo rilascia da un comando esterno nel posto giusto quello che il vantaggio si cioè si può fare si è certo il doxil che è una farmaco è doxorubicina che è un farmaco chemioterapico nel 1995 è stato approvato la sua incorporazione in nanoparticella ma come viene rilasciato solo in quel posto perché per i tumori c'è quell'effetto i tumori soliti e quell'effetto dovuto alla permeabilità capillare per cui basta iniettarlo e che stia in giro tanto tempo extravasano e si accumulano il tumore da solo senza bisogno di fare niente questa è una situazione fortunata quella dei tumori per quello che ci sono tanti farmaci antitumorali invece di di avere di focalizzare o qualcosa sul punto per i tumori solidi non c'è bisogno per invece per mandarlo al cervello come hai visto noi abbiamo dovuto mettere una molecola capace di legare un recettore che è il recettore del LDL che sta sul cervello di modo da fermarsi lì e aumentare il passaggio verso il cervello per i tumori solidi è una situazione ripeto fortunatamente fortunata perché in realtà voi tutti sapete che per fare una diagnosi di tumore si vanno anche in misura dei marker tumorali cioè proteine che vengono sovraespresse dal tumore allora qualcuno tanti hanno provato a usare gli stessi nanoparticelle quelle che si usano il doxil attaccando sulla superficie anche un anticorpo che va a riconoscere questo marker tumorale beh si è visto che il vantaggio che si ha diciamo terapeutico è molto limitato basta la quantità per un tumore solido che extravasa naturalmente attraverso i capillari per cui il targeting dei tumori non si fa più quello specifico si fa il targeting di altri organi come sono l'artrite reumatoide oppure il cervello il glioblastoma che bisogna attraversare la barriera metanencefalica allora lì si mette sopra una molecola che va a mirare e a centrare esattamente il target cioè il bersaglio farmacologico che si vuole raggiungere ho due domande forse un po' tecniche per il professor Seneci però siccome non sono esperto potrebbero essere diciamo ingenue o forse anche stupide però le faccio nel caso degli analoghi dell'R55 si è detto che il core serve essenzialmente per sostenere i due bracci esterni però mi sembrava di vedere poi dalle slide successive che invece c'erano delle molecole core modified e che quindi il core di fatto abbia una sua funzione questa è la prima domanda la seconda invece riguarda le proteine diciamo poco strutturate quelle che sono molto disordinate di cui si riesce a sapere poco allora qui semplicemente chiedo quale potrebbe essere la prospettiva con i nuovi con i futuri X-ray free electron laser nel cercare di avere un po' più di informazioni su queste cose e se questo potrebbe portare veramente a delle conoscenze diciamo utili nel campo non sono domande stupide la prima sono felice di non avere qui la gente che fa parte degli uffici brevetti delle istituzioni con cui stiamo brevettando questo perché mi avrebbe spiegato hai visto che si capisce qualcosa delle strutture che hai fatto perché la gente fa domande chiudo la parentesi detto quello il dunque l'esempio del retromero è un tipico esempio di target difficile perché non stiamo parlando di una proteina di un sito attivo che sia un enzima o che sia un recettore ma stiamo parlando di interazione tra proteine quindi è la tipica shallow quindi interazione poco profonda di superfici piuttosto grosse non facilmente pronosticabili computazionalmente quindi è stato trovato per caso questo R55 in uno screening computazionale vasto si è verificato come e dove si legava quindi questa zona noi l'abbiamo evidenziata con tecniche computazionali abbiamo ricostruito il modello e abbiamo visto come si struttura ci sono appunto questi due punti cardine che sono i punti in cui in R55 le due isotiuree si bloccano ed è un legame ionico quindi forte mentre invece in mezzo a R55 c'ha questo tiofene che non induce alcuna interazione ma la sostituzione 1-3 chiedo scusa divento un po' tecnico permette l'angolazione giusta noi abbiamo riprezzato il tiofene con altre cose queste altre cose che un chimico si può immaginare permettono di fare anche altre sostituzioni quindi fermo restando che il nucleo non interagisce ma introdurre un terzo permette di andare a prendere interazioni aggiuntive che possono essere negative nel senso destabilizzare o stabilizzare alcune di quelle che abbiamo introdotto o anche sulla catena laterale aumentano ulteriormente l'affinità quindi è un classico lavoro di struttura attività invece per quanto riguarda le proteine quello che dicevi è giusto e quindi delle tecniche che non sono le classiche che noi utilizzavamo quindi cristallografia che per il chimico è sempre la migliore perché mi dà la fotografia esatta con le posizioni tecniche tipo cryo e m e cose del genere adesso vengono studiate e ci sono informazioni che vengono su queste proteine ma di nuovo sono informazioni di proteine molto instabili e come noi sappiamo anche la cristallografia e questo tipo di cose ci danno uno snapshot una fotografia ma questa fotografia della proteina che io vedo in questa condizione è quella che è collegata all'effetto patologico o no? non ne ho idea come si diceva prima col collega la placca di amiloide uno la può anche pensare come qualcosa di benefico cioè il nostro corpo in mancanza di farmaci cerca di liberarsi delle specie veramente tossiche che sono gli oligomeri ancora solubili che fanno buchi nelle membrane fanno tante cose e in che maniera riesce a liberarsene facendoli aggregare tra di loro e precipitare certo effetto collaterale comincia a crearsi tutto questo debris però è questo che rende molto difficili queste patologie tra le tante cose per noi chimici un'altra importante è che anche la bioanalitica cioè il capire esattamente come procede la malattia e le specie che portano alla tossicità data dal Parkinson e quindi dalla sinucleina che aggrega piuttosto che dal amiloide che dal tau sono difficili da riconoscere però la strutturistica ovviamente sta migliorando perché ci sono tecniche diverse che danno in ogni caso strutture anche su proteine molto disordinate quindi da lì probabilmente in come dicevi tu 300 anni gli diamo penso di sì in 300 anni si riuscirà ad essere molto più razionale anche su queste cose secondo me grazie molto comunque mi raccomando stasera a tutti a fare la settimana ritmistica o sudoku io preferisco i giapponesi o sudoku o sudoku se preferite sudoku grazie grazie